Buongiorno a tutti e benvenuti. Non siamo numerosissimi stamattina, ma c'era l'immaginarselo in un periodo di ferie, molti genitori hanno avuto qualche difficoltà ad ottenere un giorno di permesso al lavoro, altri devono dividersi tra mamma e papà e i figli da parare e quindi siamo comunque un numero considerevole. Avevamo invitato a questo confronto anche il Presidente Zingaretti, il Dottor Ricciardi, gli assessori, ma constatiamo con la loro assenza un dato di fatto. Al di là delle forti strumentalizzazioni mediatiche, degli allarmismi e dei proclami a cui abbiamo assistito in questi ultimi due anni, i dati, i documenti ci danno ragione e nessuno mai si presta ad un confronto costruttivo alimentando il clima di caccia alle streghe che conosciamo bene, il terrorismo mediatico e il conflitto sociale latente. Oggi voi siete i protagonisti, i rappresentanti morali di milioni di famiglie che condividono i nostri ideali di libertà. Siamo qui per dire no ad un sistema ormai alla deriva, voluto con l'imposizione di un pensiero unico scientista e deleterio. Presenterò i relatori e i loro argomenti attraverso un breve video per puntualizzare che rispondiamo, rispediamo al mittente l'etichetta di oscurantisti, di irresponsabili o di novax. Ho scelto e estrapolato due strati. L'ultima conferenza di un caro amico che ci ha lasciato da più di un anno, di un medico, le parole giuste, dette da uno scienziato, il professor Giuseppe Genovesi. L'argomento che introduco è molto complesso e dibattuto perché c'è una grossa campagna mediatica che implica in generale, io credo molta difficoltà per la gente che ascolta di capire come stiano le cose. In generale si fanno distinzioni tra vax e cioè persone favorevoli alle vaccinazioni e novax, cioè persone non favorevoli alle vaccinazioni che credo sia una distinzione di brutta superficialità. Essere novax a prescindere non ha alcun senso, non solo scientifico, non ha alcun senso morale. Il concetto della vaccinazione intesa nel senso della filosofia del vaccino come mezzo attraverso il quale addestrare il sistema immunitario al fine di rispondere all'eventualità che ci si trovi di fronte a delle patologie che potrebbero avere anche seri eventi avversi è un concetto indiscutibile. Tuttavia le vaccinazioni non devono produrre danno. Quello che incontra è effettivamente la base, il principio di quanto sto dicendo. Dicevo è molto difficile non entrare in aspetti politici, però se io fossi stato il ministro della salute non avrei dato il mandato di produzione dei vaccini ad una multinazionale. Come può una multinazionale che produce numerosi farmaci avere vantaggi dal produrre qualcosa che teoricamente dovrebbe produrre salute? Significherebbe mettere le radici del proprio fallimento. Abbiamo un istituto farmaceutico nazionale militare al quale può essere dato mandato di produzione dei vaccini. Perché non è stato fatto questo? Ecco queste sono cose che io mi chiedo, ma mi chiedo proprio da cittadino, non da medico. Mi pongo queste domande perché trovo inconcepibile una condizione di questo genere. Insieme a noi oggi a chiarire anche questi aspetti il dottor Giancarlo Righini, consigliere regionale Fratelli d'Italia. Il professor Paolo Bellavite, prego, accomodatevi, medico, ematologo, docente di patologia generale, confezionato in epidemiologia. Il suo intervento sarà i pericoli epidemici, ci darà un po' di numeri reali. Il dottor Giuseppe Laura, segretario regionale del Cimo Lazio, già presidente dell'ordine dei medici e dei coronariati di Roma e provincia. Il dottor Pier Paolo Dalmonte, chirurgo, epistemologo e saggista, curatore del libro Immunità di Legge. Il rapporto tra la scienza e la politica è un rapporto complesso. Il pedante, il coautore del libro Immunità di Legge. Blogger, autore, editorialista del quotidiano La Verità. Il governo, la scienza e la fiducia. L'avvocato Alessandra Devetag del Foro di Trieste, membro dello staff legali di Assis. Obbligo vaccinale, la scelta tragica a sacrificio atteso, spunti di riflessione e strategie di reazione. E ancora l'avvocato Stefano Repaulis, il responsabile del team legali di Assis. L'accesso a scuola, le segnalazioni al tribunale per i minori, i bambini immunorepressi, con un'illustrazione di un'importante pubblicazione del dottore Eugenio Serravalle, prossima alla pubblicazione. Il professor Livio Giuliani, responsabile scientifico del Codacons, che non vedo ancora in aula, ci parlerà dell'azione del Codacons nel disvelamento dei conflitti di interesse. Infine, prima dell'apertura dei lavori, intendo ringraziare personalmente, ma anche a nome vostro, tutto il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia in Regione Lazio, che ci ha offerto la possibilità di approfondire questi temi così sentiti da tutti i genitori italiani, a ridosso dell'apertura delle scuole per altri. Grazie. Eccoci qua. Buongiorno, io intervengo adesso solamente per un breve saluto, poi a conclusione dei lavori tracceremo un po' il bilancio anche delle iniziative che intendiamo sostenere per il futuro. Io voglio innanzitutto ringraziare Massimiliano Paolini, perché è Massimiliano che per primo ha addestato in me la curiosità di capire meglio cosa stesse accadendo. Io sono culturalmente una persona che è abituata a dubitare. soprattutto quando vedo il tentativo di criminalizzazione di una qualunque parte, mi insospettisco e cerco di approfondire la questione. I racconti di Massimiliano, nella prassi quotidiana dell'applicazione di questa terribile legge che è la 119, mi ha insospettito e ho inteso insieme a lui cercare di parlare di questa vicenda. Abbiamo sinceramente anche cercato il confronto, lo ha già detto Massimiliano prima nel suo intervento, anche le assenze di oggi testimoniano una scarsa propensione al confronto, al dibattito, all'approfondimento che dovrebbe essere alla base di qualunque valutazione anche scientifica in molti casi, ma sicuramente in un dibattito politico non ci si può sottrarre al confronto. Allora io voglio ringraziare anche per il coraggio di essere qui oggi il professor Paolo Bellavide, l'avvocatessa Alessandra Devetag, il dottor Pierpaolo Dalmonte, il dottor Giuseppe Lavra, il pedante perché utilizza questo pseudonimo anche molto simpatico e l'avvocato Stefano De Paulis perché essere qui oggi e contribuire alla formazione di una coscienza, poi uno si può uscire da qua con rafforzati nei propri convincimenti o magari si è insinuato quel dubbio che porta all'approfondimento. Io ho molto apprezzato e condivido totalmente l'intervento del professor Genovesi che dice catalogarsi in queste due macro-categorie, vax e no vax è un po' una sciocchezza perché poi in realtà esistono delle differenziazioni, innanzitutto scientifiche, campo in cui ovviamente non mi avventurerò non avendo nelle competenze, bene che ciascuno cerchi e tenti di fare al meglio, svolgere al meglio il proprio ruolo, però quello che è importante è che uno scienziato dica attenzione non esistono queste due macro-categorie, esistono all'interno delle esigenze dei bambini nella maggior parte dei casi ma comunque di qualunque cittadino che abbia bisogno di una vaccinazione degli approfondimenti che si rendono necessari in regione delle proprie condizioni di salute, della propria avversione perché leggere che in Italia si sono stati 30.000 casi di avversione al vaccino, credo che già questo testimoni un po' la necessità di un approfondimento. Noi siamo qui oggi per questo, vi ringraziamo per la partecipazione e la presenza, indipendentemente dal numero di partecipanti oggi, questa è un'iniziativa che farà molto rumore, ve lo posso assicurare perché insomma qualche segnale, qualche abisaglia del disagio di qualcuno rispetto al fatto che oggi il Consiglio Regione Lazio ospiti questo dibattito lo ha suscitato e quindi siccome l'obiettivo di oggi è quello di contribuire a creare e a formare una coscienza nei cittadini del Lazio, credo che il risultato sia stato raggiunto e sono sicuro che a conclusione dei lavori odierni avremo sicuramente arricchito ulteriormente il dibattito. Vedo in sala il collega Barillari che saluto su tanti temi, questa materia ci siamo trovati molto spesso a condividerli e lo ringrazio per la presenza. Restituisco la parola a Massimiliano e ringrazio nuovamente voi per l'attenzione e i relatori per la disponibilità a questo bellissimo confronto di oggi. Grazie Giancarlo. Aggiungerei anche io una nota personale sul consigliere. In questi ultimi due anni ho avuto spesso a che fare anche con la politica e oggi sarà tema dei nostri relatori. Ho scoperto con piacere un interesse crescente da parte di Richini per questo argomento e riconosco un grande merito perché quando tornavo la seconda volta, questo non te l'ho mai detto, approfitto oggi, quando tornavo la seconda volta invece che essere io a portare documenti, a portare informazioni mi venivano fatte delle domande perché il consigliere studia anche questa mattina, ho saputo, sta studiando i documenti e tutte le istanze che abbiamo presentato nel corso di questo lungo inverno attraverso le varie associazioni, soprattutto in merito alle esclusioni scolastiche che sono in questo momento a ridosso dell'apertura dell'anno scolastico il tema più sentito dai genitori perché comunque ci troviamo e forse ci potrà dare un approfondimento il consigliere Barillari su quello che potrà essere anche l'inizio dell'anno scolastico di quest'anno, più tardi se sarà gradito il suo intervento, senz'altro. Allora apriamo i lavori perché abbiamo iniziato già un pochino in ritardo, inizierei con dei numeri realistici, non quelli che siamo abituati a leggere sui giornali o quando accendiamo la televisione e chi meglio del professor Paolo Bellavite. Professore, prego. Allora, dobbiamo dividerci un attimo il microfono e poi glielo lascerò tutto per lei, qui ha il suo file. Allora, ci siamo conosciuti in occasione del ricorso della Regione Veneto in Corte Costituzionale circa due anni fa, quando mi regalò una copia del suo libro Vaccini sì, obbligo no, un libro che ho letto e riletto. Lo stesso testo tenuto in mano dall'attuale vicepremier Matteo Salvini durante un video nel quale afferma che non ci sarebbero state esclusioni scolastiche. I dati che lei, professore, ha scrupolosamente riportato in quel libro oggi sono più che mai confermati, addirittura nella fascia di popolazione non immunizzata al morbillo, è una domanda che le faccio questa, non vi è un'incidenza statistica della malattia? Ci faccia capire lei, possiamo definire l'allarmismo strumentale, il tantamme mediatico sul pericolo di epidemia? Vediamo, grazie dell'invito. In effetti ho pensato di dare, come ha detto Paolini, dare dei dati, perché si parla di tante cose riguardo dei vaccini, ma pochi invece danno veramente risultati scientifici, soprattutto su quello che è il rapporto tra rischi e benefici. Prima di cominciare sui dati volevo però fare una piccola premessa per ciò che riguarda un po' la storia della medicina, anche per capire un po' le dimensioni del problema attuale. Che gli allarmismi delle malattie infettive fossero giustificati è evidente dalla storia della medicina. A Verona nel 1600 tra il 27 e il 31 sono morte 33.000 persone di peste su una popolazione di 53.000 abitanti. Qui si vede ancora il lazaretto di cui esiste ancora tutto il perimetro e l'edificio centrale. La peste, come altre malattie infettive, epidemiche, ha lasciato il segno nella storia del mondo, nella storia europea ed è ancora vissuta nell'immaginario collettivo come un incubo. Questo è un dipinto che si trova nella chiesa di San Fermo a Verona dove si vede la nostra città impersonata da una signora che davanti al mucchio di cadaveri sulla riva dell'Adige implora la cessazione della peste. Quella volta non c'era sostanzialmente alcun rimedio se non il cosiddetto effetto gregge per cui tutti i malati che riuscivano a sopravvivere restavano immuni e questo ha i prezzi che noi conosciamo. Per fortuna la medicina ci ha portato dei grandissimi progressi da questo punto di vista non soltanto per ciò che riguarda i vaccini ma per tante altre forme di prevenzione, di miglioramento dello stile di vita. È curioso, faccio vedere questa figura, che è la prima pagina dell'ultimo piano nazionale vaccinale dove l'immagine mostra la gente che alza un manifesto, vogliamo il vaccino. È curiosa per due ragioni questa. La prima perché si trattava in realtà di una malattia che è il colera. Questo è 1973 a Napoli. È stata l'ultima epidemia di colera. Sono morte una decina di persone. Fu dovuta a delle cozze inquinate sostanzialmente e la gente chiedeva il vaccino. Noi sappiamo che il colera è stato debellato. Dove è stato debellato? Non certo dai vaccini, ma dall'igiene, soprattutto dall'igiene delle acque. La seconda ragione è che il vaccino del colera, comunque anche se viene fatto ancora in certe zone, funziona piuttosto scarsamente. E quindi è chiaro che questo cartello vogliamo il vaccino è stato messo in maniera alquanto, diciamo, propagandistica più che realistica dal punto di vista scientifico. Il fatto che la prevenzione delle malattie infettive non passi solo attraverso i vaccini è un'acquisizione certa della medicina e dell'igiene, ma oggi purtroppo viene molto trascurata e c'è una visione completamente vaccinocentrica che io ho riassunto in questo modo. Intanto la peste è stata sostituita dal morbillo, cosa assolutamente ridicola dal punto di vista della gravità della malattia. E invece la divinità è stata sostituita da una credenza diffusa nella totale efficacia e sicurezza dei vaccini. Cosa che fino a un certo punto, come giustamente diceva il professor Genovesi, è comprensibile dal punto di vista scientifico, ma non è più comprensibile quando diventa una vera e propria fede, un dogmatismo verso cui non si può neanche sollevare dei dubbi che invece esistono proprio nella letteratura, ma non se ne deve parlare. Veniamo quindi ai tempi più moderni. L'allarme, cioè il morbillo è l'unica malattia in cui c'è stato un certo aumento di casi negli ultimi tre anni in Italia e nell'ultimo anno anche un po' in Europa e negli Stati Uniti. È stato sicuramente utilizzato in maniera massiccia per promuovere i cambiamenti legislativi di cui siamo ben coscienti. Frasi di questo genere hanno una caratteristica del tutto propagandistica, chiaro, e anche da un certo punto di vista denotano l'ignoranza dei giornalisti o quantomeno di quelli che fanno i titoli, laddove si parla di una crescita del 230% come fosse una cosa pazzesca e gravissima. Renzi dice dati pazzeschi, basta polemiche, non so cosa vuol dire, ma il 230% non vuol dire assolutamente nulla per una malattia che ogni anno fa dei picchi. Cioè, questo è noto, ma questo vale da vent'anni a questa parte che i picchi di morbillo sono così. Alcuni anni ce n'è poco, altri ce n'è di più. Quindi il fatto che tu confronti a volte con l'anno primo o addirittura con il mese precedente l'aumento è una cosa ridicola. Poi, guarda caso, nessuno parla invece di quando cala. Cioè, quando sparisce, come ogni anno succede, e dopo vedremo che dopo l'inizio della primavera il morbillo se ne va via da solo, senza che ci sia nessun particolare motivo spiegato. Altre cose ridicole, a parte qui che si vedono gli allarmismi che vengono continuamente ripetuti, 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 anche qua di nuovo il 300%, e l'epidemia in Italia, il 2019, aprile 2019, quando in realtà stava già diminuendo. E poi, altra cosa ridicola, che mettono la fotografia della varicella al posto del morbillo. Cosa molto comune che si vede normalmente. Poi ci sono gli allarmismi di stato, fatti in maniera assolutamente priva di ogni ragione. Per esempio, un caso di difterite, allarme, vaccini. Un caso, un caso di difterite, allarme, vaccini. Poi vediamo, adesso stiamo parlando degli allarmi. Addirittura la polio non è ancora arrivata, ma è plausibile che possa tornare. Quindi, sanità, informazione, eccetera. Allora, questi sono soltanto qualche piccolo flash di esempi di allarmismi. Veniamo ai dati, che sono quello che è veramente il cuore del mio discorso. Innanzitutto, per dimensionare il problema, per uscire dalla isteria collettiva, valutiamo quali sono i veri pericoli di morte oggi per gli italiani. Le prime 14 malattie che causano la morte non sono malattie infettive. La quindicesima, sapete cos'è? È l'influenza. L'influenza è il quindicesimo posto tra le cause di morte ancora nelle persone anziane, già defedate per altre ragioni, di solito sempre malattie cronico-degenerative. Invece, difterite polio zero, morbillo cinque, tetano, solo persone anziane, perché i bambini, non so, da decenni non c'è un bambino che muore di tetano, venti. Quindi venti di tetano, ventimila di diabete. Questo serve solo per dare un po' la dimensione del discorso. Veniamo alle malattie che io chiamo lorenziniane, le dieci malattie lorenziniane, quali sono i tassi di incidenza in Italia. Ho riportato i quattro anni precedenti alla legge Lorenzi del 2017. E qui ci sono il numero dei casi, si vede, e si vede il tasso, cioè che vuol dire quanti per ogni 100.000 abitanti. Ecco, siamo a livello di numeri che stanno tutti sotto ai cinque casi per 100.000 abitanti. Cioè in una città di 200.000 abitanti, come Verona, stiamo parlando di 10 casi, massimo 10 casi di una malattia in un anno. Queste sono le dimensioni del problema. Salvo la varicella, che ce n'è un pochettino di più, io direi anche la mite varicella e il morbillo di cui parliamo, che c'è stato questo aumento. Difterite. Allora, sta grande allarme lanciato dal professor Ricciardi, un caso in un anno non indica certa epidemia e non è attribuibile a minimo calo di vaccinazione. Anche perché non tutti sanno che in Italia ci sono 12 milioni di persone che hanno perso l'immunità per la difterite non sono immuni e non si ammalano. Non c'è la malattia della difterite in Italia perché non ci sono i batteri, non perché noi non siamo immunizzati, non perché c'è il vaccino, non ci sono i batteri. Quindi il contagio stesso è un'eventualità improbabile. Il vaccino protegge non dalla malattia ma dalla gravità della malattia perché è un vaccino fatto verso la tossina. Quindi è soltanto verso la tossina, cioè se uno si prendesse la difterite avrebbe meno grave la malattia, che va benissimo. Una volta il vaccino era utile e ha salvato veramente migliaia di persone. Il fatto che non è stato il vaccino a debellare la difterite è dimostrato anche dal fatto che negli ultimi anni sono andati via anche i batteri verso cui il vaccino non fa nulla, quelli che non producono la tossina. In ogni caso il pericolo dell'epidemia è uguale a zero, cioè non possiamo spaventarci in nessun modo, è un allarmismo falso. Non può esserci pericolo di epidemia. Ammettiamo che arrivasse un caso o due. Curioso, ho scoperto l'altro giorno guardando le statistiche che nella civilissima Inghilterra portata ad esempio di paese che è molto meglio dell'Italia, l'anno scorso hanno avuto 15 casi di difterite. Ma non vuol dire che ci sia l'epidemia perché si possono controllare, si possono isolare, si possono curare. Signori come è sempre stato, la medicina ha fatto enormi progressi e si possono venire incontro a questi problemi. Il polio, allora allarme, la polio potrebbe tornare perché dicono che forse qualche immigrato dall'Afghanistan, non so se c'è qualche, adesso si deve avere accoglienza per tutti sicuramente, però chiaramente fra l'altro la maggior parte sono tutti vaccinati e non c'è nessunissimo pericolo di polio in Italia. Globalmente l'anno scorso ci sono stati 33 casi in tutto il mondo di polio, zero nei paesi dove non è endemica, cioè nei paesi, un po' di polio c'è dove ci sono stati questi problemi sociali enormi, Pakistan e Afghanistan. Viceversa ci sono stati 104 casi di polio derivata dal vaccino nella povera Africa, fra l'altro. Parlo di polio paralittica, parlo di bambini che si svegliano un giorno e che non muovono più gli arti. Questo perché si sta diffondendo, ed è un vero allarme, i ceppi mutati del vaccino che provocano la paralisi. Questo si dovrebbe contrastare, a mio avviso, aumentando le vaccinazioni però con il vaccino che facciamo noi, che è il vaccino col virus ucciso. Invece in Africa non si sa ancora perché l'OMS ancora continua a vaccinare con il vaccino orale. Cioè questo è un vero scandalo, perché oltretutto, conosco un po' l'Africa, è anche molto probabile che i casi siano molti di più, perché l'Africa non è che se un bambino africano nel villaggio viene colpito da paralisi e pensano che sia stato il vaccino. Di solito è stato lo stregone se un bambino è colpito da paralisi e nessuno viene a sapere. Quindi per l'Africa bisognerebbe veramente lanciare un appello perché venga al più presto sostituito il vaccino, che qui da noi è stato sostituito più di 20-25 anni fa proprio per questi problemi. Il tetano, tutti i giornali, un caso di tetano nella mia città, Verona. Per fortuna la bambina sta meglio, meno male, sta meglio. È stata curata, va bene, è stato un caso grave, probabilmente io non lo posso confermare perché non conosco direttamente, probabilmente dai sintomi era il tetano. È stato curato con la respirazione artificiale perché il tetano blocca la... per fortuna abbiamo questa cura, per fortuna, grazie ai medici che l'hanno curata. Un caso. Allora le statistiche più recenti pubblicate da un gruppo di istituto spero di sanità parlano che ci sono stati più o meno due casi in dieci anni in bambini. Il tetano colpisce per lo più persone anziane diabetiche con le piaghe da decubito, cose di questo genere. Quindi il rischio, il tetano per un bambino è veramente basso. Si può calcolare circa, facendo i rapidi calcoli, di uno... sto parlando di un bambino non vaccinato, uno su 400.000. Quindi qual è la necessità di continuare a puntare su questo, sull'obbligo, eccetera, eccetera. Tanto più che nella cultura delle persone, delle mamme, dei genitori e tutto, è sempre stato l'idea di vaccinare per il tetano. Veniamo al morbillo, la peste del secolo. Allora, questo morbillo, a proposito del secolo, se voi guardate l'andamento del morbillo dal secolo ventesimo e adesso l'inizio del secolo ventunesimo, noi osserviamo che per quanto riguarda la mortalità, attenzione, questi qui sono i dati pubblicati nel 2018 da un lavoro fatto proprio dall'Istituto Superiore di Sanità, curiosamente proprio da... con la firma anche del suo presidente. Dico curiosamente perché qui smentisce in maniera clamorosa la grande necessità del vaccino dal punto di vista statistico. Allora, la mortalità è praticamente ridotta ai minimi termini, che significa che si può contare la mortalità sulle dita di una mano o al massimo di due all'inizio degli anni Ottanta, ben prima che entrassero in funzione i vaccini. La morbidità, cioè il numero dei casi, a prescindere dalla mortalità, era in evidentissimo calo, con tutti questi picchi ovviamente perché il morbillo l'ha sempre fatto così, era in evidentissimo calo fino a 1980, quando hanno cominciato a consigliare i vaccini, ha continuato a scendere però con questi picchi su e giù fino al 2000, quando è stato introdotto il vaccino MPR. Lo vedete? ecco qui, a questo punto è stato introdotto il vaccino MPR e l'andamento è stato quello che si vede nella riga continua qua sotto. Stiamo parlando di queste cifre, volete i numeri? Questi signori hanno fatto un'estrapolazione statistica di cosa succederebbe se si sospendesse da un giorno all'altro il vaccino, cioè una cosa assurda perché non succederà mai, perché la gente, tra l'85 e il 90% si vaccinavano già, se nell'ipotesi assurda si tornasse alla situazione precedente all'introduzione del MPR, i casi attesi di morbillo sarebbero, senza vaccino, 30 su 100.000 abitanti per anno. Quindi non stiamo parlando dell'epidemia, stiamo parlando di una malattia in cui poi la mortalità è anche uno su mille, quindi stiamo parlando di 0,0 casi di malattia veramente grave. Non sto dicendo di non vaccinarsi, sto dicendo semplicemente di quanto sia assurdo l'allarmismo e costruirci sopra delle fantasiose leggi. Ecco, questa è la famosa epidemia del 2017, l'andamento curioso, faccio due note, il picco massimo è stato in aprile come in tutti gli ultimi anni, sempre marzo-aprile, in quella settimana di massima intensità in Italia c'erano 4 casi ogni milione di abitanti di morbillo. E c'era tutto questo allarme servito per continuare a pompare sui senatori che in quel momento cominciavano a parlare di fare questo decreto d'urgenza. Il decreto è uscito a fine maggio, primi di giugno, quando ho indicato lì. Curiosamente dopo il decreto c'è stato un piccolo aumento che è dovuto quasi sicuramente al fatto che tutti vedevano morbillo dappertutto, compresi ogni puntino della pelle, e la legge famosa 119 è entrata in vigore quando ormai l'epidemia era finita. Altra cosa curiosa, perché il morbillo pochi lo hanno capito anche sul piano scientifico. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in particolare il dottor Ricciardi, è stato pubblicato un documento per cui ci sarebbero in Italia 670.000 bambini non vaccinati o suscettibili, più altri 2 milioni e mezzo di adulti sotto i 39-40 anni che sono suscettibili. Cioè non sono immunizzati, quindi abbiamo in Italia questa cifra, quanti si sono ammalati di questi? Allora 2.000 si sono ammalati prima di aprile e si sono immunizzati, se sono guariti sono immunizzati, beati loro. Quindi in aprile c'erano 2.298.000 suscettibili, perché abbiamo 2.000 ormai immunizzati, più circa 20.000 nuovi della nuova corte non vaccinati, perché questo è il numero di bambini che non si vaccinano. Andiamo alla fine, vediamo che sono passati 5.000 malati e il numero dei suscettibili è sceso a 2.295.000, più circa 50.000 nuovi non vaccinati, quindi alla fine abbiamo 2.300.000 persone suscettibili. Allora voi dovete spiegarmi come è andata via l'epidemia e come è possibile che di tutta questa massa di persone che sono state allarmate soltanto un numero così esiguo sia stato infettato. La scomparsa dell'epidemia non si spiega con l'effetto gregge, perché nella teoria, è quello che ho detto prima della peste, nella teoria l'effetto gregge avviene quando sono immunizzati la maggior parte della popolazione, qui si sono immunizzati pochissimi eppure l'epidemia è andata via, quindi c'è qualcosa che ancora ci sfugge ed è la cosa probabilmente più importante che ci dovrebbe spiegare come si può prevenire e evitare che ci siano queste epidemie. Gli ultimi dati epidemiologici che si trovano sono quelli di maggio 2019 quando sono stati registrati 218 casi, la metà di quelli del 2018 e un quarto di quelli del 2017. Quindi per ciò che riguarda l'andamento attuale e ogni allarmismo, ogni discorso di epidemia in Italia che volesse sostenere di nuovo l'obbligo vaccinale non è sostenuto assolutamente dai dati. Vediamo le coperture vaccinali. Secondo il professor Ricciardi il morbillo sarebbe stato dovuto al fatto che c'è stato un calo dei vaccinati, addirittura ha parlato di un crollo, il crollo secondo lui sarebbe dovuto alla caccia alle streghe dei social, quindi avrebbero messo a rischio tutto. Eccolo qua, qui si vede questo famoso crollo. Questo è l'andamento della copertura antimorbilla in Italia e questo è il calo che c'è stato in 2014-2015. Dove sta il crollo? Non si sa. Questi sono il numero dei suscettibili, quelli non vaccinati o in cui il vaccino non ha avuto efficacia. Si parla di un accumulo di 2300 di cui 670.000 bambini, di cui si sono ammalati 5.000 casi di cui 700 bambini. In nessun modo il piccolo aumento di casi del 2017, prevalenza adulti, può essere attribuito alla diminuzione di coperture pediatriche. Altra cosa interessante, secondo l'istituto l'accumulo dei suscettibili aumenta il rischio nelle regioni dove sono meno coperti. Andiamo a vedere i risultati. Qui voi vedete il numero dei suscettibili, questi sono i suscettibili bambini, stiamo parlando dei bambini, questi famosi bambini dai 2 ai 9 anni, che è la fascia, diciamo, del saglio e questa è l'incidenza del morbillo. Voi vedete che ci sono delle regioni che hanno più suscettibili, cioè meno vaccinati, e regioni che hanno meno suscettibili, cioè più vaccinati. E non c'è nessuna correlazione tra le persone suscettibili e il numero di casi di morbillo. Da qua si vede ancora meglio. Nel 2017 c'è stata una grossa differenza tra le diverse regioni nei casi di morbillo, in rosso. La media nazionale è 8,4 casi su 100.000 abitanti. Il Lazio eccelle perché ha avuto il picco massimo. E anche quest'anno è un po' così. Io per venire in Lazio sono venuto volentieri perché sono già immunizzato da piccolo avuto. Se no non sarei venuto, naturalmente. Eppure, questo è il Veneto, la mia regione, eccola qua, l'ho messa in verde, così insomma per darci un po' di importanza. Perché l'ho messa in verde? Perché il Veneto è l'unica regione dove non c'era l'obbligo vaccinale. E si vede che chiaramente le coperture, queste qui a barre sono le coperture vaccinali, erano intorno al 90% nel 2016, anche senza alcun obbligo vaccinale. Altra curiosità, le regioni, chiamiamole, come si potrebbe dire, più inadempienti sono la provincia autonoma di Bolzano e il Molise. Eccole qua, le inadempienti hanno avuto tra le minori incidenze di morbillo. Viceversa il Piemonte, virtuosissimo, e anche la Lombardia, virtuosissima, hanno avuto incidenze medio-alte. Ecco, quindi anche questo discorso delle regioni non ha nessuna valenza. Interessante è questo, perché adesso si parla di tutta Europa. Questi sono il numero di casi di morbillo come media tra il 2012 e il 2018 rispetto alla copertura vaccinale. Qua ho messo il famoso 95%. Ecco dove siamo. Noi siamo qui in Italia, abbiamo avuto un po' più di morbillo del solito e abbiamo un po' meno di coperture. Stiamo parlando di questi anni qua, come media. Ma noi vediamo che ci sono anche delle nazioni che hanno avuto altissime coperture, la Slovacchia, l'Olanda, la Grecia, la Germania, che pure hanno avuto molti casi di morbillo. Cioè anche qui, a parte la Romania, la pecora nera, per il resto non si vede nessuna particolare incidenza delle coperture sui numeri dei casi. La famosa eliminazione, la famosa eliminazione del morbillo, che sarebbe, come dire, l'ultima spiaggia, l'ultimo motivo per cui bisogna vaccinare tutti e di più. Questa eliminazione sarebbe bellissimo, sarebbe bellissimo eliminare tutte le malattie dal mondo, per carità, l'eliminazione è intesa come meno di un caso su milioni di abitanti. E qui voi vedete la riga, qua, e quasi tutta Europa non è arrivata affatto all'eliminazione. Quindi voglio vedere come si può oggi dire che vacciniamo ancora di più l'Italia per riuscire a eliminare... Ecco, quasi finito. Dunque, soltanto una cosa... Mi guarda un po' male, pensavo che mi dicesse che tempo... No, no, perché non volevo interromperla, però visto che mi ha concesso lei... Cioè, peraltro, se non erro, anche negli Stati Uniti, i primi grandi programmi di annullamento del morbillo risalgono agli anni 60, ma poi effettivamente non si è mai raggiunto... Sì, quando è stato inventato il vaccino, nel 1963, hanno già proclamato che in due anni avrebbe annullato la malattia, perché pensavano che avesse questa efficacia. Dopo hanno cominciato a dire che bisogna vaccinarne di più, perché c'è questo famoso effetto gregge, l'hanno posto l'asticella all'80%, sono arrivate all'80%, morbillo c'era ancora, l'hanno portato al 90%, e il morbillo non è andato via, e alla fine si sono inventati il 95%. Secondo me avrebbero fatto meglio dire 100%, ma sapendo di non riuscire a fare 100%, ecco, ci siamo capiti, insomma. Io ho fatto un lavoretto calcolando che con il tasso di infettività del morbillo, che è circa 20, cioè un malato infetta teoricamente dai 15 alle 20 persone, non vaccinate, e con un'efficacia dell'80%, per eliminare il morbillo dalla faccia della terra bisogna vaccinare il 120% delle persone. Questo è il calcolo che si può fare in base alla teoria scientifica e immunologica corrente. Quindi se qualcuno, il 120%, ma non solo dei bambini, di tutta la popolazione suscettibile. Ecco, quindi non credete neanche a questi che vi portano come argomento la eliminazione del morbillo. Sarebbe molto più efficace una strategia tale di cui noi promuoviamo la vaccinazione del morbillo. Benissimo, chi non vuole prendere il morbillo si vaccini perché il vaccino ha una certa protezione, non garantisce, ma dà una protezione. Chi invece non vuole vaccinarsi perché ha delle ragioni valide per non vaccinarsi, non si vaccini, magari rischia di prendersi il morbillo da piccolo e sarà immunizzato lo stesso. C'è un rischio sia nel prendere il morbillo sia nel vaccinarsi, si possono soppesare, a seconda dei casi bisogna individualizzare la scelta senza dogmatismi e senza ideologie. Concludiamo sempre sul morbillo per quanto riguarda le coperture. La realtà ci dice che la situazione intanto non è particolarmente grave. Il morbillo stava già diminuendo prima dell'introduzione dei vaccini, grazie soprattutto alle terapie che si possono fare perché il morbillo è grave per le complicazioni, come tante malattie virali. Sono gravi per le loro complicazioni, non per la malattia stessa verso cui l'umanità si è abituata. in un certo senso c'è una certa memoria epigenetica per cui le persone suscettibili in un certo senso sono state già eliminate, quelle più gravemente suscettibili. Adesso il sistema sanitario cura anche le complicazioni, per esempio la polmonite che può essere una delle ragioni di morte. Quindi la situazione non è particolarmente grave né dal punto di vista qualitativo né quantitativo. I 5.000 casi del 2017 e i 3.000 del 2018 e i 2.000 del 2019 non sono attribuibili al minimo calo di vaccinazioni pediatriche. Assolutamente. Chi dice che sono dovuti a quello dice il falso o dice una cosa non provata dai dati. non c'è correlazione tra le coperture pediatriche e i casi nelle diverse regioni italiane. In Veneto, senza obblighi, la copertura è sempre stata simile alle altre regioni, che si dica del Veneto, che sarebbe la patria dei Novax, non so cose fandonie di questo genere. Le prospettive di eliminazione, quindi questo miraggio di riuscire a liberare il mondo dal morbillo sono molto lontane e in Europa ci sono stati moltissimi picchi di morbillo, anche in paesi con coperture maggiori del 95%, in paesi in cui le CDC, che sarebbe l'ente europeo di sorveglianza, aveva già proclamato l'eliminazione. Quindi è ridicolo, anche dal punto di vista scientifico, continuare a puntare sull'Italia o addirittura sulla regione Lazio, diciamo, come se questa fosse con tutta poi la gente che viene a Roma. Io ho detto, se volete fare una cosa seria, va bene, mettete l'obbligo a vaccinare in Italia, però dopo mettete anche una barriera al Brennero per i tedeschi che vengono giù. Cioè i tedeschi che non sono immuni non li lasciate passare. Se volete fare una cosa seria, se no, che senso ha vaccinare solo i bambini italiani, non so, per sport. Vi ringrazio dell'attenzione e casomai mi riservo di rispondere a qualche domanda. Grazie a lei, professore. Aggiungerei, a quanto detto nella parte finale dal professor Bellavite, un altro dettaglio che ci interessa qui nel Lazio. Il Veneto è sì, la regione dove anche quando non c'era l'obbligo c'erano delle soglie, delle percentuali molto alte di vaccinazione. Però è anche la prima regione a fornire un servizio di farmacovigilanza attiva. Infatti le segnalazioni che avvenivano anche prima della 119 in Veneto, nelle altre regioni non ci sono e questo non è possibile statisticamente. Quindi un'altra questione di interesse per noi qui nel Lazio, che avremo modo poi magari di approfondire, è proprio questa, l'esistenza, lo stato dell'arte della farmacovigilanza attiva. Parleremo anche di questo. Invito a prepararsi l'avvocato Devetag. No, perché non avendo da proiettare nulla puoi restare comodamente. Dunque, obbligo vaccinale da scelta tragica a sacrificio atteso. Questo è il titolo del tuo intervento. Direi, insomma, stiamo un po' mettendo insieme i puzzle di tutto il lavoro che faremo oggi. la legge Lorenzin, le premesse stesse della legge, i contenuti, tante violazioni anche dei principi medici, dei principi ideontologici, conseguenti all'applicazione di una legge frettolosa e inopportuna. Prego. Grazie. Si sente? Sì. Allora, intanto grazie, vi ringrazio di questo invito che mi fa molto piacere. Io affronterò, ho condensato nel titolo più o meno l'argomento che tratto, di fatto io affronterò il tema dell'obbligo vaccinale alla luce della nostra Costituzione. Mi scuso se qualcuno di voi ha già sentito alcune delle cose che dirò, perché di fatto questo tema l'ho toccato in altre circostanze. Oggi però, in questa occasione in cui ho un po' più di tempo, vorrei aggiungere anche altre circostanze che reputo importanti. Allora, partiamo dalle premesse. Le premesse che hanno portato all'adozione del decreto Lorenzin. Nel 2016, l'8 luglio del 2016, quindi un anno prima dell'adozione del decreto Lorenzin, la Federazione Nazionale dei Medici, ha promulgato il cosiddetto documento sui vaccini, che si può scaricare facilmente a chiunque può leggerlo dalla home page della FNONCEO. In questo documento viene sostanzialmente introdotto un nuovo illecito disciplinare, che è la cosiddetta sfiducia vaccinale. Si dice a chiare lettere, quindi, che un medico che sconsigli una vaccinazione, attenzione, qualunque vaccinazione, non solo quelle rese obbligatorie per legge, rischia un illecito disciplinare. A stretto giro sono stati irradiati diversi medici, il dottor Gaval, il dottor Miedico, quindi è stato chiarito immediatamente di quale illecito disciplinare stessimo parlando, perché uno può anche dire, vabbè, corro il rischio di una censura o di una sospensione, magari temporanea, ma certo non posso correre il rischio di perdere la possibilità di esercitare. Quindi, diciamo, sono stati puniti tre medici per educarne 100. Questo è quello che rischiate, solo sconsigliare una vaccinazione. Contemporaneamente era al vaglio del governo e è stata poi approvata la legge 3 del 2018 che ha riformato gli ordini sanitari. Questa legge ha trasformato gli ordini dei medici da enti ausiliari dello Stato a enti sussidiari dello Stato ed ha modificato anche i criteri in base ai quali le commissioni deontologiche giudicano gli illeciti disciplinari, introducendo l'obbligo da parte del medico di attenersi, sì, al codice deontologico, ma anche a tutti gli obblighi che dovessero essergli imposti con legge nazionale, regionale, addirittura con contratto collettivo nazionale di lavoro. In pratica, sostanzialmente, si introduce la possibilità di introdurre delle prassi che siano obbligatorie per il medico e che entrino in conflitto con il proprio codice deontologico, pertanto che lo vedranno costretto a scegliere se rispettare la legge ma violare la propria etica o viceversa, mantenersi fedele alla propria etica ma rischiare appunto di non adempiere. Ora, questo combinato di sposto, di disposizioni, il documento della FNOMCEO, la legge sulle vaccinazioni obbligatorie e la legge 3 del 2018 hanno di fatto eliminato qualunque possibile dissenso nei confronti della pratica vaccinale da parte di tutto il mondo medico. Contemporaneamente abbiamo assistito alla politica che ha cominciato a dire con sempre più insistenza che sulle vaccinazioni deve decidere la scienza. attribuendo il termine scienza alla medicina si è fatto un salto logico aberrante perché la medicina non è una scienza, la medicina è un'arte che si avvale delle scienze ma le applica alla materia più versatile e diversa che ci possa essere cioè l'essere umano, pertanto non gli si potranno mai attribuire le definizioni che teoricamente si potrebbe, ma teoricamente, qua ci vorrebbe un dibattito molto più lungo attribuire alla scienza. Il fatto sta che con grande nonchalance si è deciso di considerare la medicina una scienza quasi una scienza esatta e la politica ha deciso che su questo tema deve decidere la scienza conferendo una delega assolutamente incostituzionale a una entità che si pone al di fuori della dialettica democratica la scienza, per dirla molto brevemente, non è soggetta alla Costituzione la scienza risponde ad altri criteri per esempio quello del fine che giustifica i mezzi la scienza ha un obiettivo e lo deve perseguire ma questo non è l'agito di un legislatore non può esserlo il legislatore deve adottare degli atti normativi attraverso un processo di adozione degli atti normativi normato per il nostro ordinamento e questi atti normativi devono superare il vaglio costituzionale quindi la politica non può mai delegare a un'entità estranea alla dialettica democratica le decisioni sui diritti e i doveri dei cittadini ma deve prendere spunto dalle arti, dalle tecniche dal mondo della tecnica, può farlo e poi tradurre questo spunto in un atto di legge che sia sempre e comunque rispettoso della Costituzione e dei diritti costituzionali non potrà mai mettere in competizione non avrebbe mai potuto, ahimelo affatto mettere in competizione l'esercizio di diversi diritti costituzionali si è venuto quindi così a creare un cortocircuito la politica delega alla scienza le decisioni sulla vita dei cittadini la scienza è ridotta al silenzio e può esprimere un unico pensiero la politica a fronte di questo unico pensiero espresso è sgravata di responsabilità poiché si sta affidando a un'entità infallibile pervenuta a un capolinea conoscitivo in tema vaccinale le vaccinazioni non possono più essere messe in discussione sono sicure e quindi possiamo affidarci serenamente a questa scienza che non sbaglierà queste le premesse per l'adozione dell'obbligo vaccinale andiamo al contenuto bene, il contenuto è parimenti incostituzionale e perché? il discorso è semplice in realtà l'articolo 32 della Costituzione dice che la salute è un diritto fondamentale dell'individuo ed è un interesse della collettività la sentenza della Corte Costituzionale, la 184 del 1986 ha chiarito subito che non è un caso che sia stato indicato prima il diritto e poi l'interesse ma risponde a una precisa gerarchia di valori questo è abbastanza intuitivo viene prima il diritto fondamentale il diritto fondamentale è la massima espressione possibile del diritto dopodiché viene l'interesse della collettività insieme al diritto alla salute viene ovviamente il diritto a rifiutare un trattamento qualora questo presenti un profilo di rischio bene, allora come si inquadra l'obbligo vaccinale in questo quadro? beh, lo dice la stessa Corte con la sentenza 118 del 1996 l'obbligo vaccinale è una scelta tragica utilizza questo termine perché è tragica? perché essendo volto a imporre un trattamento sanitario a persone sane che in quel momento non ne hanno bisogno in pura previsione di un futuro possibile contagio l'obbligo accetta il rischio che una di queste persone, anche una sola che era sana perda la sua salute per un evento avverso che come ogni farmaco anche la vaccinazione può avere ecco perché è tragica perché quella persona fosse anche una ma noi sappiamo che non è solo una avrà sacrificato la sua vita per la collettività ecco la tragicità grazie ma lo dice la Corte Costituzionale non lo dico io quindi da ciò la legittimazione della legge 210 del 92 che destina un indennizzo al martire a colui che si è sacrificato ora però ragioniamo insieme se una scelta è tragica per forza di cose deve essere eccezionale quando si può pervenire a una scelta tragica cioè quando si può arrivare a dire accettiamo il rischio del martire beh, quando il pericolo che incombe sulla collettività è di tale gravità è di tale diffusività da far assurgere quel mero interesse alla salute a rango di vero e proprio diritto capace di competere con il diritto fondamentale e quando può succedere questo? beh, per i grandi flagelli del secondo dopoguerra per il vaiolo per l'apolio per malattie gravissime mortali che costituiscono un pericolo per l'intera collettività non per una esigua minoranza perché se io introduco il principio in base al quale io posso obbligare anche per evitare un banale esantema infantile che costituisce un rischio solo ed esclusivamente per una piccola porzione minuscola della popolazione io non posso più parlare di scelta tragica vuol dire che il sacrificio è atto dovuto è una scelta ordinaria questa è una pacifica inversione dell'articolo 32 della Costituzione è la collettività ad essere divenuta portatrice di un diritto fondamentale a essere protetta da tutto perché è fragile perché è identificata con quella unica piccola minoranza di immunodepressi non vaccinabili a scapito del singolo che perde e lo perde per sempre il diritto di decidere del proprio corpo perché lo perde per sempre perché è nella natura delle cose gli ordinamenti giuridici si fondano su principi se io scardino il principio da quel principio passerà tutto perché se io oggi ammetto la vittima sacrificale per il morbillo domani dovrò ammetterla per la scarlattina se troviamo il vaccino e così per altre patologie virali o batteriche più o meno gravi perché queste costituiranno sempre un rischio per quella categoria quindi in questo quadro dobbiamo chiederci a chi spetterà a un certo punto dire basta dire vabbè ne abbiamo imposti 20 30 40 caspita adesso ne hanno trovato un altro imponiamo anche questo 40 41 a chi spetterà dire adesso basta e soprattutto in base a quale ragionamento in base a quale criterio perché basta di fronte per esempio non lo so io adesso parlo a vanvera no una polmonite batterica o virale che penso possa essere esista e possa essere molto pericolosa magari sto dicendo una sciocchezza ma con quale ragionamento dico varicella sì e questa no capite se cade il principio cade l'impalcatura e forse è questo l'obiettivo perché quando io sento la vice commissaria delle Nazioni Unite dottoressa Gilmore e avevo qua il documento l'ho perso che a Ginevra un forum della salute dichiara che le vaccinazioni devono essere fatte nell'intero arco della vita e non esiste il diritto di rifiutarle allora mi viene nel sospetto che l'Italia sia stata scelta come paese capofila per un progetto molto più ambizioso che mira esattamente a questo aprire la breccia dalla quale far passare tutto nell'intero arco della vita e perché hanno scelto l'Italia per questa sperimentazione io qua non lo so ma posso fare soltanto una ipotesi e l'ipotesi è che se funzionerà in Italia funzionerà dappertutto e questo perché perché secondo me l'Italia gli italiani sono un paese di persone molto intelligenti o meglio siamo questa è una mia considerazione siamo sempre stati una terra di conquista siamo abituati ai contrasti alle contraddizioni e siamo abituati a mettere in discussione anche gli ordini dell'autorità di fatto da quando io ho cominciato a interessarmi a questo tema vi posso dire che ho conosciuto tra le persone più argute più intelligenti più più competenti che hanno veramente ampliato gli orizzonti delle mie opinioni e delle mie considerazioni e trovo che sia una cosa mostruosa invece lo sciacallaggio mediatico alla rovescia che sta attribuendo un'etichetta di cialtrone cialatano a persone che semplicemente riescono a concepire la complessità di un ragionamento i media vogliono fare a pezzi questo argomento per svenderlo facilmente e renderlo terra di conquista di opposte fazioni o sei sì o sei no è semplificato all'osso in realtà è un tema complesso che richiama molte discipline e bisogna essere in grado di affrontarlo e nonostante quello che io vi ho detto e per fortuna non sono l'unica a pensarla così ci sono illustri costituzionalisti che ritengono che condividono queste riflessioni penso a Paolo Maddalena voi tutti lo conoscete nonostante questo la Corte Costituzionale con la sentenza 5 del 2018 ha sul ricorso della Regione Veneto avallato il decreto Lorenzini come è stato possibile questo? beh allora io anche qua posso fare soltanto una riflessione però la condivido con voi perché mi sembra interessante innanzitutto la Corte avrebbe dovuto accogliere solo uno dei motivi di ricorso della Regione Veneto quello dell'invesione delle sfere di competenza tra potestà legislativa nazionale e regionale e avrebbe dovuto dichiarare inammissibili le altre perché la Regione Veneto ha affrontato anche la violazione dell'articolo 32 della Costituzione eccetera ma non poteva farlo perché non è un individuo una Regione non può vantare una lesione di un diritto può vantare solo la lesione delle sue competenze è solo il cittadino che può adire la Corte per lamentare la lesione di un suo diritto non lo ha fatto è entrata nel merito e ha accolto l'occasione per esprimersi nel contenuto e la sentenza 5 del 2018 è molto lunga e molto tecnica non fa uno sprolochio lunghissimo sull'OMS e le indicazioni di questi organismi sovranazionali che oramai hanno diciamo voce in capitolo molto di più di purtroppo dei nostri diritti costituzionali ma c'è un passaggio che mi ha molto colpito e ve lo leggo è una frase in ambito medico raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come ugualmente doverose in vista di un determinato obiettivo in quest'ottica occorre considerare che anche nel regime previgente le vaccinazioni non giuridicamente obbligatorie erano comunque proposte con l'autorevolezza propria del consiglio medico allora ecco che qua si realizza la commistione tra tecnica mondo della tecnica tecnocrazia tecnica e diritto allora dire che per un medico consigliare estremamente un vaccino oppure ritenerlo obbligatorio e imporlo sia tutto sommato uguale è una banalità significa che quel medico considera quel vaccino comunque fondamentale molto importante ma dire trasporre questo ragionamento nel campo giuridico e dire che raccomandare o imporre tutto sommato è uguale non c'è grande differenza cioè il fatto che io possa dire no grazie arrivederci uscire da quella stanza e continuare la mia vita di sempre o il fatto che io qualora facessi così perdessi un mio diritto costituzionale all'inclusione alla socialità per mio figlio questo sarebbe identico questo è è incredibile che si sia arrivati a questo e perché si è arrivati a questo qua è sempre una domanda che porta un'altra domanda non lo so però posso dirvi che mi ha colpito molto per le stesse ragioni la sentenza Cappato della Corte Costituzionale è la sentenza 207 del 2018 voi tutti conoscete penso la vicenda di DJ Favo e Marco Cappato Marco Cappato accompagna DJ Favo in Svizzera dove viene ottiene diciamo il suicidio assistito torna in Italia e si autodenuncia perché in Italia è reato l'aiuto al suicidio è reato viene processato penalmente viene sollevata in quella sede la questione di legittimità costituzionale della norma penale che prevede l'aiuto al suicidio attenzione non l'istigazione che è ovvio che sia reato ma l'aiuto praticamente si chiede alla Corte è ancora è opportuno mantenere questa previsione alla luce delle nuove sensibilità delle DAT del testamento biologico eccetera la Corte cosa fa la Corte in molte pagine quindi diffusamente ribadisce che sostanzialmente l'aiuto al suicidio è perfettamente costituzionale deve rimanere nel nostro ordinamento perché si aprirebbe la possibilità di abusi non sto neanche a spiegarvelo perché è intuitivo poi però cosa fa? fa un'inversione a U e dice tuttavia è vero che oramai la sensibilità è un tema che andrebbe quindi cosa faccio io? organo giurisdizionale io sospendo il processo e lo rinvio di un anno e nel frattempo chiedo al legislatore di fare una legge che mi consenta di alla fine stringi stringi tutelare Marco Cappato che ha fatto un atto di fatto di grande solidarietà umana e su questo io non entro non entro nel merito potrei persino essere d'accordo nella situazione di DJ Favio ma quello che è incredibile e gravissimo a mio avviso è che un organo giurisdizionale che o attesta la costituzionalità o attesta l'incostituzionalità decida per una terza via chiedendo al legislatore di fatto che gli faccia una legge in questi termini allora quando io ho letto ho saputo di quella sentenza sono rimasta senza parole per fortuna il giorno dopo su un portale web è apparsa la intervista a due ex presidenti della corte costituzionale niente poco di meno che Valerio Onida e Giovanni Maria Flick i quali hanno detto le seguenti frasi si tratta di un grave precedente perché la consulta ha abdicato alla propria funzione Giovanni Maria Flick dice ha deciso di non decidere in casi non identici ma simili nei quali aveva ritenuto di non avere strumenti la consulta aveva sempre usato la chiave dell'inammissibilità per poi dare nel merito un monito al legislatore vero perché è esattamente quello che fece la corte costituzionale con la sentenza 258 del 94 che tutti coloro che toccano il tema vaccinale conoscono che è quella in cui la corte dichiara inammissibile la questione ma invita il legislatore a adottare gli esami prevaccinali per fare in modo di ridurre al massimo grado il possibile rischio che si corre con la somministrazione di un vaccino ma aveva dichiarato inammissibile perché ci voleva un intervento legislativo io non sono un legislatore invece oggi 20 anni dopo 30 anni dopo ha fatto il legislatore allora questo significa far cadere la separazione dei poteri e questo è di una gravità che voi tutti potete comprendere perché oggi riguarda il tema vaccinale che evidentemente riguarda poche persone anche se sta facendo molto rumore per fortuna però domani questo può succedere per qualunque altro tema della nostra vita e dei nostri diritti e sono i nostri diritti che vengono toccati quali sono le conseguenze di questo disastro perché per me questo è un disastro un clima di guerra civile un conflitto tra cittadini e medici e servizio sanitario nazionale genitori che hanno il figlio con un esantema e non lo portano in ospedale perché sono terrorizzati di essere segnalati al tribunale minorenni e finire sulle prime pagine dei giornali e anche indagati dalla procura con tutto ciò che questo può comportare perché se ci fosse una complicanza quel bambino rischia la vita e i medici non sono più un soccorso ma sono un'inquisizione c'è c'è il crollo della fiducia nei medici e conseguentemente nelle vaccinazioni c'è la fuga dalle vaccinazioni e attenzione da tutte le vaccinazioni perché il discorso di o tutte o nessuna porta a dire allora nessuna perché se io non posso evitare l'epatite B quando ho una sentenza della Corte di Giustizia Europea che mette in relazione il vaccino antiepatite B con la sclerosi multipla e io non posso evitarla perché me la mettono nell'esavalente ciò significa che non potrò fare neanche l'antitetanica non farò neanche l'antitetanica ecco perché ci sono i casi di tetano perché i genitori hanno paura di andare a chiedere solo l'antitetanica e quindi non fanno neanche quella questo porta questo sistema e poi siamo al paradosso che ha appena illustrato il professor Bellavite Lombardia e Lazio anche quest'anno virtuosissime Lazio addirittura oltre il 97% di copertura hanno i tassi più alti di incidenza del morbillo Molise e Bolzano che hanno coperture bassissime pochissimi casi e quindi anche qua casca il palco non regge più è una narrazione che non regge più allora concludo il mio discorso con le strategie di reazione perché nel mio titolo io ho detto strategie di reazione allora mi spiace dirlo brutalmente ma le strategie di reazione passano attraverso il mondo medico che non può assistere allo scempio del mestiere più sacro che ci sia se cadono i medici cadiamo tutti ognuno di noi sa cosa significa trovare un vero medico nella propria strada o per se stesso o per un proprio caro sappiamo cosa significa quando troviamo una persona che veramente si fa carico e aiuta e soccorre e la commozione che quasi proviamo nel ricordo di questi medici fa sì che noi tutti siamo consapevoli che quello che vi stanno facendo quello che stanno facendo alla vostra professione è un abominio e non vediamo l'ora di vedere una forte reazione allora la costituzione è il problema la costituzione è la soluzione il codice deontologico del medico è un bel codice contiene tutta una serie di principi che sono diretta discendenza dei principi costituzionali pensate per esempio all'articolo 3 che impone al medico il rispetto della libertà e della dignità della persona bene esso discende direttamente dall'articolo 13 della costituzione che sancisce che la libertà personale è inviolabile pensate all'articolo 4 che tutela l'esercizio professionale del medico che deve fondarsi su principi di libertà indipendenza autonomia e responsabilità è meraviglioso anche solo dirlo bene discende direttamente dall'articolo 21 della costituzione che tutela il diritto alla libera manifestazione del pensiero pensate all'articolo 19 o 55 del codice deontologico che impongono al medico un continuo aggiornamento e una informazione sanitaria accessibile trasparente rigorosa e prudente questi discendono direttamente dall'articolo 33 della costituzione che stabilisce che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento bene partiamo da qua il medico per deontologia è tenuto a fornire un'informazione completa e prudente e questo vale più di qualunque documento sui vaccini della Fronceo o di chi che sia perché siccome questi principi sono principi che discendono direttamente dai principi costituzionali essi hanno applicazione privilegiata vengono prima di qualunque legge nazionale regionale contratto collettivo nazionale di lavoro che vi imponga qualsivoglia comportamento quindi nel momento in cui voi ricevete un paziente voi gli dovete dare un'informazione completa completa significa non solo quella favorevole alla farmaceutica ma anche quella che dice da dei moniti e questo perché beh perché per esempio lo stesso comitato di bioetica nel 2006 ha pubblicato un documento che si intitola conflitti di interesse nella ricerca biomedica e nella pratica clinica che è un documento molto lungo le conclusioni sono brevissime ma sono drammatiche in pratica si dice che l'industria spesso non fornisce ai medici un'informazione neutrale completa ma un'informazione già indirizzata creata nei propri uffici l'industria a volte interrompe ricerche non favorevoli o ne impedisce la pubblicazione in altri casi distorce una ricerca in corso sostituendo gli obiettivi end points primari con obiettivi surrogati l'industria in quanto proprietaria dei risultati non pubblica i risultati negativi le riviste scientifiche non pubblicano articoli con dati negativi perché di scarso interesse scientifico o commerciale allora un medico non può ignorare questo quindi di fronte al proprio paziente gli devi dire sì che le vaccinazioni sono utilissime che fanno benissimo che alcune malattie sono molto gravi ed è opportuno prevenirle ma deve dirgli anche queste cose deve dirgli devi sapere anche che per esempio un report della regione Puglia un vaccino vigilanza attiva ha recentemente stabilito che ci sono il 4% di reazioni avverse gravi devi sapere questo e qualora gli venga contestato che lui si dimostra troppo blando e scettico nei confronti delle vaccinazioni lui farà fede si farà forza dei principi deontologici che derivano direttamente dai principi costituzionali dice no no io non ho sconsigliato io ho dato un'informazione completa e prudente e io spero e anzi sono certa anzi sono più che certa che in questa riscossa che attendiamo tutti con grande trepidazione da parte di tutta la vostra categoria la migliore avvocatura e non parlo di me ma parlo dei tantissimi colleghi splendidi in tutta Italia che si battono per questo tema sono certa che la migliore avvocatura sarà al vostro fianco perché questa noi siamo tutto sommato un'intelligenza diciamocelo facciamoci qualche complimento ogni tanto gli italiani hanno anche grandissimi pregi e quindi siamo di fronte a una battaglia di civiltà che possiamo e dobbiamo combattere insieme perché la Costituzione prima di essere della consulta se permettete nostra di tutti noi grazie grazie avvocato davvero approfitto per una piccola comunicazione di servizio intendiamo procedere con un coffee break fra poco direi di fare almeno un altro intervento per chi vuole fare delle domande ai relatori dei piccoli interventi può scrivere su un foglietto il nome il relatore al quale porre la domanda e portarlo qui da noi dopo il coffee break valuteremo la lunghezza perché abbiamo poco tempo quindi due minuti tre minuti a persona dei testi la descrizione che c'è e vi chiameremo per alla ripresa dei lavori per porre questa romanda ai relatori ora aggiungo una piccola cosa così non interrompo oggi cercherò di parlare il meno possibile per fare il mio moderatore il mio ruolo di oggi però avrei tante cose da dire l'avvocato Devetag ha toccato un argomento che noi genitori perché io sono un genitore come voi non sono né un medico né un avvocato ma rappresento una associazione attiva su tutto il territorio nazionale dell'associazione Cominua ci è capitato di regarci in alcune asle dove dei genitori attenti dei genitori scrupolosi si recano per avere quelle informazioni basilari per poi poter firmare il consenso informato e concedere quindi l'inoculazione dei figli con il vaccino ecco noi ci troviamo di fronte a casi nei quali i medici proprio perché l'avvocato ha citato un documento importantissimo redatto dalla regione Puglia quindi dalla sanità nel quale si denuncia che le reazioni avverse per vaccinazione MMR MMRV siano circa il 3,7 su 100 bambini vaccinati quindi non quei numeri fantastici che ci dà l'asle quando andiamo a fare i colloqui di una reazione avversa su 100.000 questi sono punti fondamentali ai quali bisogna dare delle risposte le nostre asle i distretti territoriali del Lazio non sono in grado di rispondere io potrei documentarlo ho qui un'infinità di documenti che acquisisco dai genitori nei quali l'asle delega la risposta a qualcun altro notate bene abbiamo molti casi nei quali i medici dell'appuntamento informativo dichiarano di non essere in grado di rispondere alle domande dei genitori delegano a qualcun altro che risponderà con un successivo appuntamento che noi stiamo chiamando e non ci risponde però ci dicono proprio per tornare al discorso dell'importanza del consenso informato però ci dicono vabbè intanto vaccinate poi dopo vi informate cioè non funziona così oggi la giornata di oggi è fondamentale noi genitori non siamo come qualcuno ci ha definito dei somari o come la comunicazione a cui abbiamo assistito in questi due anni vuole farci credere noi siamo dei genitori scrupolosi dei genitori responsabili tutto ciò non è possibile e mi chiedo tornando al tema di oggi fondante la proposta della giunta Zingaretti di questa legge la proposta 143 come è possibile in una regione come in Lazio dove non esiste esiste solamente a parole un'anagrafe vaccinale perché noi stiamo sul pezzo noi monitoriamo quello che accade quando i genitori vanno alla ASL non ha un regresso delle vaccinazioni dei bambini ce l'ha per qualcuno spesse volte si tratta di documenti acquisiti in maniera illegittima attraverso la scuola violando la privacy quindi tutto ciò non ha senso io mi chiedo come sia possibile proporre una legge ancora più restrittiva e poi non presentarsi qui oggi a confrontarsi con noi procediamo c'era stato un piccolo cambiamento vedo che manca ancora uno dei relatori forse di ora più tardi direi visto l'argomento con il dottor Pierpaolo Dalmonte avevamo già preparato peraltro le diapositive allora lei dottore è chirurgo epistemologo e saggista soprattutto io sto leggendo il consiglio a tutti i genitori di leggere questo libro e l'altro quello del professor Bellavite perché la consapevolezza di noi genitori in un momento così pericoloso da quanto descritto anche dall'avvocato Devitac è importante è importante avere chiaro l'idea di cosa sta accadendo di quali sono i percorsi attraverso i quali si vuole raggiungere un determinato obiettivo che a questo punto va oltre la scienza va oltre la politica e in questo libro che sto leggendo appunto voglio leggere una parte molto corta perché mi ha ricordato una cosa di un anno fa i vaccini obbligatori tra scienza al governo e governo della scienza io ricordo leggendo ora se trovo la vagina dovrebbe essere questa ricordo il manifesto un manifesto che alle precedenti elezioni nazionali vota la scienza vota la scienza quando c'era qualcun altro un grande comunicatore tra virgolette che affermava che la scienza non è democratica quindi c'è un connubio fra la scienza e la politica cosa sta succedendo siccome siamo siamo nella regione Lazio ma veniamo da diverse regioni faccio una piccola dichiarazione che io vengo dall'Emilia Romagna i cui servizi per l'infanzia sono oggetto di vidia da parte di tutto il mondo detto questo trovo che questa sia una vicenda tristissima comincio con una serie di piccole citazioni c'era un film di qualche anno fa con Russell Crowe e Leonardo DiCaprio che parlava di operazioni della CIA in Medio Oriente e si intitolava Nessuna Verità ecco questa è la tipica vicenda una vicenda tristissima perché abbiamo sentito raccontar menzogne abbiamo visto scatenarsi la guerra di tutti contro tutti o Pessiana abbiamo avuto una politica che voleva ottenere uno scopo e usato tutti i mezzi peggiori per ottenere uno scopo cioè se tu vuoi vaccinare la popolazione è meglio informare la popolazione non imporre diceva Carl Schmitt che sovrano è chi decide lo stato di eccezione ecco lo stato di eccezione è sovrano cioè sovrano vuol dire che è qualcuno che da arbitro decide di sospendere le libertà democratiche e costituzionali ne abbiamo un esempio negli ultimi anni il Patriot Act approvato dopo l'11 settembre consente di sospendere le libertà costituzionali dei cittadini americani o non americani nel senso che chiunque anche cittadino americano da un giorno all'altro può essere portato a Guantanamo interrogato col waterboarding e non sono tenuti a fornire spiegazione sia sospetto di terrorismo ha parlato l'avvocato Devetag dell'ONU della vice segretaria della segretaria dell'ONU ho citato Karl Schmidt devo citare Max dice questi sono il comitato d'affari della borghesia non governano nulla ma semplicemente fanno gli affari di qualcuno ecco e soprattutto la politica è la grande sconfitta in tutto questo aveva parlato all'avvocato che i costituzionalisti hanno abdicato al loro compito i politici affidandosi alla tecnica hanno abdicato al loro compito che è quello di decidere e deliberare ecco un piccolo elenco qui qualsiasi decisione politica deve rispondere a queste domande perché per chi cioè per gli interessi di chi o se riesce a conciliare gli interessi come a quale scopo con quale scopo e a quale costo è sostenibile inteso non la sostenibilità ecologica semplicemente ma la sostenibilità economica la sostenibilità per la società è sicuro e soprattutto chi decide cosa cioè chi decide cosa sono coloro che sono stati eletti per decidere le cose sembra una tautologia ma non è così ecco partiamo queste sono le vaccinazioni del decreto Lorenzin rese obbligatorie le prime 4 loro erano già le altre sono state rese dal decreto Lorenzin per malattie pericolosissime tipo la rosolio e la parotite ad esempio bisogna non avere la propria emergenza ecco quali sono stati le ragioni ufficiali qua iniziamo con i numeri magici la soglia di copertura raccomandata dall'OMS per raggiungere l'immunità di greggio è pari al 95% ecco non so se vi ricordate anzi no vi ricordate per forza perché sono un oggetto del presente il rapporto di deficit il debito pubblico massimo consigliato per i paesi aderenti all'euro è il 60% ecco il 60% era la media dei debiti pubblici dei paesi aderenti al trattato di Mastricht all'epoca della stipula del trattato non ha nessun fondamento scientifico l'hanno buttato lì quell'altro è il rapporto deficit del 3% che fu studiato su incarico di Mitterrand da parte di un funzionario del ministero del bilancio francese perché siccome il nuovo governo socialista aveva fatto un po' troppe promesse stavano sforando un po' troppo il budget statale e allora ha detto ci serve una regola per contenere un po' le cose ha fatto finta che fosse scientifica e invece non lo era un'altra cosa è un articolo di due famosi economisti di Harvard Rainer de Rogoff che scrisse un articolo che diceva che se il rapporto se il debito pubblico supera il 90% del PIL la crescita è fortemente ostacolata qualche tempo dopo alcuni giovani ricercatori rifeciano i calcoli sul foglio di Excel e scoprirono che i calcoli erano sbagliati questa regola è stata adottata dalla politica un altro esempio fu i moltiplicatori che i nissiani che adesso non sto a spiegare adottati per la Grecia dal Fondo Monetario Internazionale che erano sbagliati hanno ammesso che erano sbagliati applicando certe regole hanno distrutto un paese la Grecia quindi questo 95% vediamo un po' le ragioni ufficiali la copertura media nazionale è pericolosamente sotto la soglia raccomandata dell'OMS quelle che ho cerchiato che ho racchiuso nei quadrati per tosse, tetano, disterite poliomilite per tebile e rosolia secondo l'OMS sono sotto l'immunità di Grecia peccato che queste siano le soglie di immunità di Grecia quelle che ho segnato in rosso sono semplicemente sono esattamente in tre parametri non hanno svolato quindi quel 95% raccomandato dall'OMS non ha un fondamento scientifico e se non ha un fondamento scientifico evidentemente un fondamento ideologico cioè qua dice che il principio dell'immunità di Grecia ovviamente non può essere automaticamente esteso a tutte le vaccinazioni ma necessita di una dimostrazione sul piano della plausibilità biologica e due articoli uno di Fine che ha la carta dalla London School di Aigen non ha San Raffaele in via delle oggettine identifica alcuni parametri cioè l'omogeneità della popolazione che può essere spaziale o un'omogeneità sociale diciamo quindi se non vi è un'omogeneità spaziale è difficile se la gente si muove se la gente si muove da vari gruppi etnici con diverse credenze con diverse abitudini difficilmente può essere rispettata tant'è che io la chiamerei più immunità di stalla che immunità di greggio perché il greggio si muove la distribuzione omogenea della vaccinazione cioè non vaccinare delle specifiche corti tipo gli infanti ma deve essere distribuito omogeneamente in tutte le età la totale efficacia dei vaccini cosa che non è questa nessuno può parlare dei provvedimenti perché è così e l'uniformità anagrafica della popolazione cioè se noi vacciniamo i bambini e non fanno il richiamo siccome la vaccinazione acquisita molto spesso non danno immunità permanente per molte malattie non la dà troveremo dei giovani adulti che non si sono fatti il richiamo quindi sono suscettibili della malattia e probabilmente presa in forma più grave e inficiano totalmente il discorso dell'immunità di legge quindi vedete che allora nell'informazione abbiamo avuto gente che parlava per assoluti sembrava di sentire parlare Tommaso D'Aquino con meno spessore culturale tuttavia però non c'è nulla allora la scienza è stata una delle vittime la politica è stata una delle vittime la scienza è stata una delle vittime la classe medica è stata una delle vittime perché i medici non possono più parlare se non si uniformano però tutto questo non ha fondamento scientifico queste sono le cause della riduzione delle coperture vaccinali secondo il ministero della salute scarsa consapevolezza ridotte percezioni dei rischi bla 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 tant'è che il decreto la legge Lorenzin stessa conteneva un articolo che diceva che bisogna informare la popolazione bisogna informarla ma l'informazione per avere un consenso informato l'informazione deve essere adeguata in fondo se ci pensate le consultazioni elettorali sono una specie di consenso più o meno informato alle politiche poi non sono informato adeguatamente perché i giornalisti fanno un meraviglioso lavoro di disinformazione però teoricamente sono una cosa del genere ecco l'informazione è corretta non vi è stata chiarezza sugli scopi del provvedimento cioè non vi è stata nessuna emergenza sanitaria tale da giustificare la cosa è stato buttato lì un numero magico 95% che potrebbe valere per il mobillo ma non vale per le altre il tetano non è trasmissibile da uomo a uomo quindi non vale niente vi è stata una censura della critica con toni anche violenti e toni anche offensivi da parte di coloro che io chiamo le cubiste o le cheerleaders della scienza perché certo non sono degli scienziati vi è stata una polarizzazione estrema del dibattito cioè le parole pro-vax e no-vax non si erano mai sentite prima cioè capite che se uno stato impone dei provvedimenti molto drastici che riguardano la salute delle persone che riguardano l'accesso ai corpi se non spiega perché lo fa causa automaticamente una resistenza cioè se io vi dico dovete marciare a passo dell'oca non vi dico perché però dovete marciare a passo dell'oca se no verrete sanzionati la gente un po' di dubbi se li pone perché debba marciare a passo dell'oca e se vi dice che alcune categorie sociali vadano stigmatizzate cioè c'è mancato poco che alcuni chiedessero di mettere una fascia gialla ho scritto NV invece che la stella di David su quelli non vaccinati sì sì l'hanno detto lo so sì sì c'era una gelateria che aveva scritto vietato l'ingresso ai cani non vaccinati no i cani sto scherzando io sono i non vaccinati i cani in genere sono vaccinati non vi è stata nessuna scientificità nell'argomentazione è un'impostazione oltre che manichea puerile ed emotiva senza nessuna spiegazione come se un fatto scientifico che è una locuzione di Ludwig Fleck che è un epistemologo e medico polacco fosse qualcosa da collegare a un'estremità di assoluti contrapposti vero o falso bianco e nero tutta nulla scienza e superstizione cioè abbiamo queste persone che non hanno un'idea di quella che è l'epistemologia a un fatto scientifico e si permettono di parlare di scienza se si permettono di insultare si ritengono medici non essendo clinici quindi non hanno idea che è necessario il consenso non parlano con un paziente però si ritengono medici e fanno delle figure barbine tenendo con mano tremolante nel guantino la siringa perché evidentemente ne hanno usate poche invita loro davanti alle telecamere che cosa è successo è privata è privata la figura della sineddoche la parte per il tutto cioè si critica l'obbligo quindi si critica la politica vaccinale tu cura se si critica la politica vaccinale si critica che hanno i vaccini tu cura quindi siete contro i vaccini però siccome i vaccini adesso sono la sineddoche per la scienza se siete contro i vaccini siete contro la scienza quindi è tutta una cosa ridicola ma questo perché perché forse fa comodo anche alla politica così come le norme europee probabilmente fanno comodo hanno fatto tanto comodo i governi precedenti perché non dovevano prendere delle decisioni c'era il pilota automatico ce lo chiede l'Europa la deciso Bruxelles adesso è ancora meglio ce lo chiede la scienza chi siamo noi nei confronti della scienza chiaramente dobbiamo obbedire alla scienza ecco però adesso questi numeri sono lievemente cambiati perché anche la Francia ha le vaccinazioni obbligatorie come noi però molte nazioni europee non hanno la vaccinazione obbligatoria e non mi risulta che negli altri paesi vi siano delle emergenze terribili quindi se le politiche vaccinali sono diverse da nazione a nazione diciamo che qual è l'evidenza scientifica per l'obbligatorietà cioè l'evidenza scientifica non è una questione geografica se una cosa funziona in Inghilterra perché non funziona in Italia dicono perché noi italiani siamo più disobbedienti vorrei vedere le comunità pakistane della periferia di Birmingham quanto sono obbedienti o quelle nigeriane però poi mi darebbero delle razziste se dicessi una cosa del genere e questa è una pubblicazione dell'Unione Europea ci dicono che non si può fornire la definitiva evidenza dell'efficacia e inefficacia dei programmi di vaccinazione obbligatoria sui tassi di copertura tuttavia l'approccio obbligatorio non sembra essere rilevante nel determinare il tasso di copertura vaccinale infantile nei paesi dell'Unione Europea quindi sono abbastanza omogenei questa è una pubblicazione dell'Istituto Mario Negri che dice altri fattori oltre all'obbligo possono determinare l'adesione alla profilassi vaccinale le misure coercitive dovrebbero essere un estrema razio da attivare in presenza di un pericolo concreto hanno venduto un pericolo concreto che non c'era il rischio associato alla sola introduzione di un nuovo obbligo è di semplificare eccessivamente una realtà complessa scusate che vado bene un sesso d'acqua guardate che io so che ho un po' di xerostomia che è secchezza delle fauci allora questa è la bozza del DDL 770 come la legge di Lorenzi include giustamente delle parti che promuovono la corretta informazione come leggete qua piani di comunicazione ispirati ai principi della trasparenza e indipendenza delle fonti però qua si introduce il vincolo esterno allora a questo punto interventi in caso di emergenza sanitaria e di compromissione dell'immunità di gruppo se si rilevano significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal piano nazionale di prevenzione vaccinale che è un organismo tecnico automaticamente vengono adottati dei piani straordinari questo è un pilota automatico che si è data alla politica per non deliberare se il piano nazionale di prevenzione vaccinale allora siccome è già stato stabilito sul calendario per la vita che le soglie devono essere il 95% anche per malattie per le quali non ha senso che vi siano queste soglie diciamo che il pilota automatico è come se fosse già scattato se non c'è la copertura del 95% vengono adottati già i piani straordinari stessa cosa qua ecco parlava prima l'avvocato Devetta degli aspetti legali e costituzionali questa è una pauria cioè una situazione senza soluzioni una pauria difficilmente superabile tra obbligo e consenso informato e si ravviserebbe la fattispecie del trattamento sanitario obbligatorio che però hanno amato in maniera abbastanza precisa da cui parlavo prima dello stato di eccezione ecco questi sono documenti più o meno ufficiali della federazione nazionale degli ordini dei medici che dicono in una relazione di cura nessun criterio decisionale è superiore al consenso ovvero il consenso serve per favorire una decisione condivisa capite che se io sono medico non posso fare altro che consigliare un trattamento il corpo del paziente non è mio quindi io posso dirgli guarda se fai questo succede questo se non fai questo succederà quest'altro ma non posso imporglielo cioè non posso legare il paziente e fargli una colegistetomia o neanche una semplice iniezione o non posso neanche fargli ingoiare una pillola se lui non vuole è ovvio questo è sempre è sempre basato sul consenso il consenso informato è una sorta di criterio epistemico cioè un criterio di convalidazione della scienza proposta dal medico al paziente è una convalidazione della scienza da parte della società cioè il paziente o la società constata se quel trattamento è stato positivo per lui quindi ancora che le cheerleaders della scienza dicono che deve essere tutto evidence based basato sull'evidenza o se la prova è di efficacia se quello che io propongo al paziente che potrà avere un milione di articoli a sua convalida al paziente non fa bene il paziente mi dice non mi ha fatto bene oppure penso che non mi farà bene non lo voglio fare anche perché io una volta discorsi a un congresso di chirurgia che parlava appunto dell'evidence based delle linee guida dico sì mi sta tutto bene l'astrato ma chi di voi si farebbe operare da un chirurgo oppure che sia perché se teniamo i dati della letteratura un trattamento che va bene va bene adottato da qualsiasi operatore ma non è così esiste la variabilità individuale degli operatori così come esiste l'individualità la variabilità individuale per i pazienti e questo è questo deve andare in direzione di quella che adesso è ritenuta essere la migliore relazione di cura cioè l'alleanza terapeutica cioè il concetto di libertà di scienza di scelta si oppone a quello di obbligatorietà e pone un problema epistemico nuovo quello del rapporto tra evidenze scientifiche e opinioni personali del malato cioè se io tratto un malato secondo evidenze scientifiche e dicessi dottore per questo come prima evidentemente il trattamento è stato inefficace anche se tutta la letteratura del mondo mi ha detto che è stato efficace e il consenso è fondato sulla fiducia cioè la fiducia allora è importantissimo non lo dico perché sono medico sarebbe ancora più importante se io fossi non medico quindi solo paziente se si interrompe o si rompe ed è già in gran parte interrotta la relazione di fiducia tra paziente e medico diventa un disastro per tutti cioè un paziente non si fiderà più di quello che verrà detto lui dal medico e il medico sarà inibito a compiere il proprio ruolo la propria pratica perché se non ti fidi oltretutto poi una buona comunicazione aiuta moltissimo la terapia perché un paziente convinto seguirà meglio una terapia ma anche la parte psicologica è importante insomma per cui diciamo certe corbellerie le possono dire solo coloro che non hanno a che fare con i pazienti infatti qua è l'alleanza della cura ecco purtroppo torniamo alla politica allo stato di eccezione al partner tact o altre varie cose ecco diciamo la politica gestita secondo i criteri della scienza ha un triste precedente non so se vi ricordate l'azione T4 che era un programma della Germania nazista che serviva per sterilizzare gli elementi non so i disabili oppure gli elementi razialmente indesiderati alcuni venivano interrogati davanti a una scrivania chiusa sotto la scrivania c'era un emettitore di raggi X che andava in una direzione veniva puntato verso le gonadi di quello interrogato lo sterilizzavano solitiziamente comunque proposero di sterilizzare i disabili perché erano inutili alla società alcune razze appunto indesiderate poi fecero di peggio alla fine però questo diceva la scienza dell'epoca la scienza della Germania nazista dell'epoca diceva questo e se noi andiamo in questa direzione non vi sarà un limite è un po' il discorso anche sulle leggi sul fine vita può star bene dal punto di vista individuale basta che noi decidiamo che poniamo un limite invalicabile perché un essere improduttivo per la società un 75enne cosa serve la società la società capitalistica della produzione un costo prende una pensione costa un sacco di soldi per il sistema sanitario nazionale può venire in mente cosa serve boh mettiamogli la pillolina che e quindi vediamo che l'uso della scienza siccome la politica in gran parte è abdicato è sempre più diffuso per giustificare decisioni politiche ma non è possibile applicare direttamente l'evidenza scientifica alle scelte democratiche perché non è la questione che la scienza è democratica o meno è la società che deve essere democratica o meno allora intanto la scienza è democraticissima perché consente anche a dei totali ignoranti di epistemologia di esprimersi in tal senso per cui evidentemente molto democratica non ho mai sentito nessuno dire no guarda tu non capisci niente di queste cose sarebbe meglio che tacessi e sarebbe stato opportuno alla fine ecco deve ovviamente potersi instaurare un rapporto dialettico tra i due domini che riconosca l'incertezza cioè la scienza non ha delle certezze la scienza è evolutiva le verità scientifiche sono temporane impermanenti la pluralità dei valori perché la scienza è un dato non è un valore esistono dei valori che possono andare al di là della scienza la società esprime dei valori non esprime dell'evidenza dei dati e le diverse prospettive culturali etiche o sociali cioè se ho sentito ai testimoni di Geova di non fare trasfusioni è certe volte molto complicato per avere un testimone di Geova perché devono essere usati due pesi due misure diciamo tu puoi fare una trasfusione a un testimone di Geova solo se è in stato di incoscienza e non c'è nessuno che ti dica la cosa cioè solo devi soccorrere lì per lì per la strada che sta sanguinando alla fine è così e questo se la nostra società vuole continuare a definirsi democratica io ho qualche dubbio che lo sia però si definisce tali e questo non significa come pensano alcuni semplici introdurre il principio maggioritario nella validazione del sapere ma i principi democratici danno la sua applicazione cioè deve essere un consenso di valori perché l'arte del governo è frutto di una complessa opera di mediatura direzione dialettica tra l'autorità politica e le diverse istanze della comunità nelle scelte politiche è impossibile disgiungere i fatti dai valori e la politica deve individuare un perché non è stato detto un perché è stato mentito il perché su questa legge non era un'emergenza ma il perché perché era il 95% perché l'OMS ha deciso questo perché dopo una riunione negli Stati Uniti l'Italia doveva fare da capofila delle strategie vaccinali e perché lo dovevano fare altri cioè qualcuno ha deciso che l'Italia dovesse esserlo ma non erano loro i soggetti alle vaccinazioni erano altri cioè la sperimentazione doveva essere fatta su altri e non su di loro non era quelli dell'Istituto Superiore di Sanità o la Ministra all'epoca un intellettuale che tutto il mondo ci invidia e per concludere un gruppo dirigente tale questa è una pubblicazione della Federazione dell'Ordine dei Medici quindi non è di Renato Curcio delle Brigatte Rosse non è di Beatrice Lorenzini un gruppo dirigente tale quando si assume per prima cosa la responsabilità di fare un'analisi vera e per seconda cosa quando sulla base delle proprie analisi si assume la responsabilità di fare delle scelte questi oltretutto hanno fatto una scelta politica hanno fatto una scelta politica elettorale perché poi l'hanno usata nei manifesti elettorali ma si sono nascosti vigliacamente dietro le evidenze scientifiche cioè non hanno avuto il coraggio noi abbiamo alcuni politici che non hanno neanche il coraggio di dire che è stata una scelta loro e questa è la cosa e hanno cercato di inibire il dibattito in tutti i modi hanno creato slogan hanno chiamato le cubiste della scienza hanno consentito loro di dire cose nelle navi vedete adesso con Bibiano è venuto fuori un bel bubone ma non dimentichiamoci che alcuni di questi scienziati sui social network io ho gli screenshot di tutto promovevano la revoca della patria potestà a chi non vaccinava i figli per far cosa mandagli a Bibiano a coppie di che genere l'ordine dei medici non ha detto nulla questi hanno insultato colleghi l'ordine dei medici non ha detto nulla adesso è ora di finirla adesso è ora veramente di finirla devono se non sono in grado di contenere il linguaggio neanche scritto è ora che la finiscano anche perché io ho letto qualche passo io ho letto qualche passo dei libri divulgativi di questi geni sembrano scritte da un bambino delle medie semianalfabeta per cui di che cosa stiamo parlando grazie per l'attenzione grazie a lei collegandomi alla conclusione del dottor Dalmonte aggiungo anche che abbiamo assistito inermi alla radiazione di professionisti di medici radiati diciamo così colpirne uno per educarne mille e questo ha fatto fare un passo indietro effettivamente a molti medici ma attualmente assistiamo anche a fenomeni gravissimi come per esempio affermazioni sui social di medici e io mi chiedo lì l'albo dei medici perché non interviene in quel caso abbiamo letto di un medico non farò il nome ma è un documento ancora in rete che dichiara che se al suo pronto soccorso arrivasse un bambino vaccinato non lo curerebbe si esatto arriva un bambino che si è rotto un braccio ma non è vaccinato lui non lo curerebbe allora l'ordine dei medici dinanzi a questi fatti così gravi così profondi sono delle mine nella società queste dove l'ordine dei medici c'è soltanto per radiare il dottor Gava più che il dottor Petrella più che il dottor Dario Mierico questo non è possibile e la politica deve prendersene la responsabilità io mi auspicherei che arrivasse presto un governo che come prima azione del governo del ministro della salute reintegrasse quei medici nel loro ruolo visto come stiamo con intanto da una comunicazione di servizio e poi riprendiamo i lavori perché è tardissimo allora domani ci sarà un altro incontro importante non so quanti di voi lo sanno ci sarà un incontro qui a Roma con alcuni dei relatori oggi presenti ci sarà la presentazione di questi libri e anche di altri libri e soprattutto ci sarà un incontro con i referenti comilva per le problematiche dell'iscrizione scolastica quindi sui nostri canali trovate tutte le informazioni per chi non è informato e ci sono ancora posti disponibili poi procederei a questo punto invito il consigliere Davide Barillari a intervenire ringraziandolo per essere qua prego grazie a tutti grazie per questo invito grazie al collega Righini che ha organizzato questo importante evento io ho proprio poche parole pochi minuti per aggiornarvi un po' sulla questione nazionale e sulla legge regionale io faccio parte della forza politica Movimento 5 Stelle di cui come sapete la Grillo è un nostro esponente e non sono qui né per giustificare l'attività di governo né per fare da parafulmine questo sono subito chiaro allora quello che sta facendo diciamo il ministero innanzitutto sta discutendo ha dato al Parlamento la scelta di legiferare quindi la Grillo poteva fare un decreto il primo anno poteva evitare le esclusioni scolastiche anche il ministro dell'istruzione poteva farlo non è stato fatto e questo per me è stato un errore ha dato al Parlamento la possibilità di legiferare in maniera regolare ridando al luogo adatto per fare una legge che superasse la 119 ha dato posita al Parlamento il Parlamento ha perso due anni e adesso doveva terminare per luglio prima del famoso 10 luglio ha ritardato ha superato questa data adesso a settembre speriamo che la 770 arrivi finalmente in fase emendativa e il testo che avete visto oggi che qualcuno vi ha presentato dovrebbe essere come dire modificato sulle valli di emendamenti che sono in commissione senato Sileri sta gestendo tutta questa discussione e sta aspettando il parere che è in ritardo per cui doveva arrivare luglio arriva a settembre il parere della commissione bilancio su alcuni emendamenti appena arrivano questi pareri si va in votazione quindi avremo un testo finale della 770 l'ultima riunione che abbiamo fatto con la Grillo è stata lei a tirar fuori questo tema di fronte a tutti i consigli regionali che erano stati invitati e ha detto che sul morbillo non si discute perché perché per i dati che ha lei che spero corrispondano a queste o le interpretano in modo diverso però i dati dicono che c'è un'emergenza epidemiologica in Italia del morbillo io di questo naturalmente non ci credo però ritengo che lei sia come dire ha le sue responsabilità e questo è fondamentale però credo che ci sia tutta questa cultura vaccinale che abbiamo visto oggi a livello italiano internazionale parliamo dell'OMS UNICEF ISS G8 tutti che devono per forza fare le vaccinazioni obbligatorie questa è una tendenza mondiale quindi un ministro potrebbe opporsi a queste dinamiche ed essere poi cacciato da un giorno all'altro quindi c'è diciamo uno scenario per cui in Italia abbiamo visto questa caccia alle streghe abbiamo parlamentari 5 stelle in campagna attuale che non volevano assolutamente parlare di questo tema e ancora oggi qua mancano tutti i consigli regionali di tutte le forze politiche perché c'è una paura ancora oggi dopo quello che si è creato questa caccia alle streghe con medici radiati con parlamentari messi diciamo come Novax c'è ancora la paura di affrontare questo tema quindi chi oggi parla ancora di vaccini si espone e tutti dicono di non farlo la nostra comunicazione dice ancora di non parlare di vaccini quindi capite lo scenario in cui noi siamo ancora come dire molto limitati c'è un ministro che potrebbe fare qualcosa ma deve fidarsi deve ascoltare quelli che sono i dati ufficiali che sono sicuramente stravolti confini commerciali confini diciamo internazionali quindi in realtà lei ha le mani libero oppure no questo dubbio a me resta ancora potrebbe averle ma a volte fa queste uscite molto particolari per arrivare a dirvi che la 770 lascerà il morbillo perché dicono tutti che è un'emergenza quindi o noi dimostriamo e siamo in grado di farlo che non è un'emergenza quindi smontiamo tutte queste dinamiche internazionali che dicono che il morbillo è la piaga del secolo sono morti per strada oppure in Italia resterà l'unica vaccinazione obbligatoria il morbillo che poi si tira dietro no perché no perché c'è un problema anche qua chi sta producendo i vaccini qual è l'interesse commerciale potrebbe farlo lo Stato anche qua una scelta che rompe equilibri internazionali se questo governo fosse davvero coerente fino alla fine dovrebbe fare il monodose e produrlo a livello di Stato il tema dell'esclusione però ne stiamo discutendo il tema delle esclusioni è in dubbio lasciamo le esclusioni solo per il morbillo oppure le togliamo e su questo giocherà in commissione i singoli emendamenti e qua la Lega svolge un ruolo fondamentale la Lega dovrebbe essere diciamo un OVAX ma vedremo poi in voti in aula cosa succederà ed è tutto diciamo un dubbio che non sappiamo come andrà quella votazione quindi uscirà un testo probabilmente che lascerà solo il morbillo obbligatorio con o senza esclusioni scolastici quindi preparatevi a queste conseguenze come la riflessione di pazza e tutto però io volevo concettarmi sulla legge regionale legge regionale allora se il Parlamento approva la 770 e toglie comunque di 10 obbligatorie e toglie 9 cosa fa? il PD reagisce reagisce perché deve andare contro il governo perché deve dimostrare che esiste e fare opposizione al governo e molto probabilmente questa legge che è rimasta ferma è rimasta come uno spauracchio che Zingaretti ha fatto apposta pochi mesi fa probabilmente verrà davvero discussa in questa regione Zingaretti è un ruolo nazionale non è presidente regione qui è segretario del PD quindi questa legge la userà contro il governo sapendo che è incostituzionale la sentenza di poco tempo fa lo fa apposta per alimentare ancora questo scontro politico con il governo spaccando magari lega 5 stelle userà strumentalmente a parte di monodepressi ma il tema delle vaccinazioni per spaccare ancora di più allora dobbiamo essere pronti quindi io adesso sono contento che si uniranno tutte le forze contro questa legge che è a tantissimi punti di vista per essere diciamo battuta però quello che vi chiedo innanzitutto è di partecipare se questa legge arriva in commissione arriverà magari in fretta arriverà dobbiamo essere tutti presenti qua in regione tutti i comitati le associazioni unire tutte le forze noi come politica ci uniremo probabilmente dovremo anche dei punti in comune per contrastare questa legge faremo istruzionismo come mai non abbiamo fatto io ho già dichiarato guerra a Zingaretti poi il giornale l'ho già riportato su questa cosa di tutto combatteremo tutti i burioniani che verranno qua combatteremo Ricciardi Ricciardi sta facendo consulenza qui noi abbiamo questo il time pronto tireremo fuori anche questa vicenda drammatica faremo istruzionismo chiameremo tutti questi chiameremo tutte le persone in commissione sanità a raccontare perché il mobilo è un'emergenza perché gli immunodepressi sono solo una scusa racconteremo tutte le incostituzionalità quindi faremo questa battaglia dentro la commissione lì cercheremo di bloccare questa legge che nel Lazio chiudo velocemente Zingaretti ce l'ha già provato prima della Lorenzin vi ricordate scorsa legislatura aveva già tentato di fare la strada dell'obbligo con una legge regionale poi arrivata Lorenzin lui si è bloccato però ce l'ha già provato quindi lui è un provax estremo in più lo fa anche per motivi politici contro il governo stiamo pronti che se arriva a questa legge regionale dobbiamo per forza fare un istruzionismo su tutto e non so quanti ci seguiranno fra tutti i consiglieri noi costruiremo una battaglia tutti insieme ma molti nella mia forza politica anche in altre faranno un passo indietro quindi prepariamoci anche a questo problema l'ultima cosa su questa legge no facciamo istruzioni ecco l'ultima cosa allora che ci sia persone che siano presenti in commissione perché il PD si spaventa se siamo tutti presenti si muovono i comitati si muovono le piazze noi faremo posizione dentro la commissione e faremo istruzionismo con migliaia di vendamenti quindi se passa questa legge è la prova che poi arriverà anche in altre regioni e tenteranno questa strada di tornare sulle vaccinazioni obbligatorie su 10 o più essendo l'obbligo anche fino a 14 anni quindi questo è il prossimo terreno di battaglia vediamo come va sul nazionale e poi il prossimo scontro sarà qui quindi vi chiedo proprio di essere presenti noi faremo il possibile come politica per fermare questo ulteriore scelpo grazie grazie consigliere Barillari ecco questa è un'altra dimostrazione la trasversalità politica che sta assumendo questa battaglia che vede unite forze divergenti di politicamente differenti però unite in questa linea di pensiero questa è un'ulteriore dimostrazione che le nostre istanze sono fondate e che la libertà di scelta intesa in un modo in un buon senso non è assolutamente quel demone che viene descritto dai mass media grazie proseguiamo ora con il dottor Lavra il dottor Giuseppe Lavra già presidente dell'ordine dei medici e degli odontoiatri di Roma e provincia presidente del Cimo Lazio ho avuto modo di conoscerlo meglio in questi giorni mi consenta una battuta secondo me la tre cani della sanità italiana non c'è stata una domanda alla quale non mi ha saputo rispondere tempestivamente e allora per far intervenire dottore le chiederei questo diciamo vedendo quello che è successo negli ultimi anni varie epidemie anche quella del 2011 la metodica di approccio e di risoluzione di queste epidemie un po' tutti questi aspetti che cosa sta accadendo nella sanità forse lo scientismo e il tecnicismo stanno prendendo il sopravvento su quella che dovrebbe essere realmente la sanità mi pare una bella domanda e mi sforzerò di rispondere però non prima di aver intanto salutato tutti e dato il buongiorno a tutti e di non aver ringraziato anche gli organizzatori che hanno avuto il coraggio di portare avanti questa iniziativa che effettivamente col clima che si è creato nel paese portare avanti questo tema in queste condizioni con gli organi di informazione che sono oggettivamente tutti schierati in una certa dimensione culturale e poi ci sono anche altre cose che conto di dirvi credo che sia particolarmente meritorio un'altra premessa che volevo fare è quella di ringraziare l'avvocato Devetag perché ha effettivamente fatto un onore al codice deontologico essendo io un clinico particolarmente appassionato anche di deontologia e lei avendo fatto questo richiamo alto dei principi e dei valori contenuti nel nostro codice deontologico che lo dico per inciso non sono quei richiami brillanti che ha fatto il collega Dalmonte quelli erano di derivazione dell'attuale dialettica che c'è nella Frumceo ma questa attuale dialettica è figlia di questo famigerato discorso di Trento che qualcuno che non è nemmeno medico e che si è introdotto per dare una protesi intellettuale a chi evidentemente manifesta limiti nella esprimersi da un punto di vista intellettuale e di competenza nell'ambito dell'attuale Frumceo parlo di Ivan Cavicchi tanto per essere chiari che ha blatterato di questo famoso codice di Trento che ripeto non esiste così come si parla molto a sproposito delle famose cento tesi ma in realtà il codice vigente è quello che vi ha citato l'avvocato prima ed è quello che ha questa grande tradizione di valori e principi che risalgono alla Costituzione ma anche alla conferenza di Oviedo del 97 quindi di questo stiamo parlando e quindi il resto è come dire oggi si usa dire molto il termine fuffa il resto è fuffa diciamo di persone che vanno avanti con un atteggiamento un po' un po' come dire avventuriero e credo che noi non abbiamo bisogno oggi di muoverci su quel piano lì invece la domanda che mi si pone effettivamente sì io credo che il tema di oggi noi stiamo qui oggi ma così come stavamo anche circa due mesi fa a Bologna con lo stesso gruppo che mi ha concesso l'onore di invitarmi e io oggi darò lo stesso taglio dei miei interventi a Bologna di circa due mesi fa perché dicevo che il motivo per il quale ci troviamo oggi qua e che effettivamente nel 2009 2010 c'è stata questa cosiddetta pandemia N1H1 una pandemia che ha di fatto innescato una sorta di appetito della politica o io con un termine poco riverente ogni tanto la chiamo anche la parapolitica comunque la politica allora portata avanti dall'onorevole Lorenzin allora ha immaginato che fosse interessante per la politica sanitaria che lei intendeva fare gestire questo fenomeno della diciamo della pandemia dell'N1H1 quindi di quella pandemia influenzale per evidentemente forse tentare di gestire un fattore emozionale collettivo ovviamente da utilizzare ovviamente ai fini politici o comunque del consenso tant'è che non sono mancati toni propagandistici purtroppo non sono mancati gli effetti collaterali profondamente divisivi anche nella società e non solo nel mondo della politica e purtroppo non sono mancati neanche il disagio e la sfiducia da parte della popolazione una determinata azienda farmaceutica internazionale tra le più importanti e ricche ha fatto anche la sua figura perché è stata colta allora con il ditino nella marmellata e questo è stato e quindi si è creato un clima perché questa metodologia di fatto non poteva non innescare perché si dice sempre che la società è un po' così distrazione però mediamente io credo che la società italiana sia tra quelle più attente e difficilmente io credo che sbagli nonostante tutti me compreso magari non riusciamo a capire le scelte che fa il nostro popolo però io sono convinto che il popolo italiano sia uno dei popoli più intelligenti della terra e quindi il popolo italiano ha risposto secondo me in maniera coerente con questo clima che si è creato attraverso questa metodologia con cui è stata affrontata la situazione ma diciamo che una cosa che a me da medico da medico ormai ancora in attività ma ripeto che ha fatto sempre delle scelte come dire coerenti o almeno credo tali mi ha dato molto fastidio che ci fosse anche una sorta di uso da parte dell'onorevole Lorenzin di degli organismi istituzionali penso all'istituto superiore di sanità penso al consiglio superiore di sanità che sono i massimi organi tecnici istituzionali ne aveva fatto quasi un uso di cooperatori per una sorta di causa politica non mi piaceva non mi piaceva non lo apprezzavo non lo consideravo serio ma soprattutto non era utile perché la causa vera era quella di legiferare in maniera seria responsabile e valida tutta la normativa che bisognava riprendere in mano per fare una legge sui vaccini seria corretta e rispettosa di quelle che sono le esigenze della collettività e invece no mi è sembrato che come si diceva ma fosse stato buttato in cacciara quali sono stati i risultati di questa metodologia per me un po' perversa e i risultati li ha misurati un sondaggio di Eurobarometer il quale dice che il 50% della popolazione europea diffida e ha paura dei vaccini il 50% cioè la metà ha spaccato la società ma parliamo dell'Europa non stiamo parlando del popolo dell'Europa non solo per converso l'80% quindi la stragrande maggioranza ha comunque come dire fiducia nel principio della vaccinazione che poi è un po' quello che avete sentito anche da qui da un lato ci sono coloro che vorrebbero viaggiare su quei binari tracciati dall'onorevole Noresin ma non tanto lei perché qualcuno ha già citato il livello come dire intellettuale del personaggio ma insomma devo dire che mi è piaciuto molto questa citazione ma io penso che dietro alla Noresin ci sia ben altro ben altro e ben altri interessi quindi non stiamo parlando di una persona stiamo parlando di un sistema probabilmente anche di un mostro che probabilmente non abbiamo ancora nemmeno come dire delineato in maniera adeguata quindi queste contraddizioni questa questa situazione qui effettivamente ormai è una cosa che si sta trascinando perché come vi dicevo a mia memoria il tutto è cominciato circa dieci anni fa e ancora oggi siamo qui ridotti a parlarne quasi nelle catacombe quindi qualcosa che va come dire chiarito compreso ed è questo il mio sforzo di chiarire a me stesso e quindi cercare di spiegare che cosa sta accadendo perché se c'è un disegno se c'è un progetto se c'è una volontà dietro a tutto questo è evidente che noi siamo chiamati ad ingegnarci per capirlo perché chi vuole imbrogliare il prossimo normalmente non è che che gli dà anche il foglietto di istruzioni dell'imbroglio che ha progettato non ce lo dà e quindi dobbiamo ingegnarci io ripeto mi sforzo e ci provo uno dei metodi che hanno immaginato perché il potere ha sempre la suggestione di forzare e di imporre ebbene la 119 non ha fatto altro che imporre l'obbligo e l'obbligatorietà dei vaccini quindi ho un comando io quindi voi dovete adeguarmi poi ha usato i fedelissimi tirati fuori dalle istituzioni rappresentative sanitarie dalla scientificità di tanti personaggi che poi sono finiti in burletta nazionale perché ormai è chiaro e palesi a tutti che insomma non è il caso nemmeno di regalare citazioni a nessuno di questi che non credo che le meritino beh però questo ministro allora ha forzato di fatto anche diffuso a mio avviso dati molto controversi e comunque che non possono essere dati come dati incontrovertibili o verità nel mondo medico che rimane l'arte medica e che rimane una professione fondamentalmente ancorata a un'arte professionale ancorché abbia riferimenti di carattere scientifico e rimane un'arte e rimane un'arte umana e quindi non è possibile continuare non è possibile continuare a far credere che ci siano tante verità noi non abbiamo verità abbiamo delle conoscenze in continua evoluzione per cui noi dobbiamo essere corretti per quanto riguarda la realtà che noi trattiamo e se poi siamo ministri della Repubblica o comunque governanti io credo che siamo tenuti ad essere particolarmente legati a questa ma perché sta succedendo tutto questo io ve lo dico perché sono convinto che tutto questo è potuto succedere perché perché alcune istituzioni nostre i due massimi organi tecnici li ho citati ma potrei citare anche altri organi della rappresentanza e quindi penso alla FUNCEO e penso anche ad altre istituzioni e perché hanno concesso tutto questo perché perché la medicina sta in crisi noi dobbiamo dircelo e avere il coraggio di dircelo e perché sta in crisi sta in crisi perché forse si è allontanata la medicina da quelle che sono le sue basi cioè la medicina non è che è nata oggi o che l'ha scoperta la Lorenzina la medicina ha una storia di 2500 anni e in 2500 anni ne ha fatto di strada e non posso non posso osservare questa involuzione oggettiva della medicina esposta alle come dire alle brame di gente che non ha nemmeno un'adeguata statura intellettuale o direi anche culturale se mi consentite qui stiamo veramente toccando il fondo e lo abbiamo toccato e stiamo continuando a trascinarci nel fondo di questa situazione che abbiamo toccato quali sono gli elementi di questa crisi vera intanto c'è un elemento della complessità che ha aiutato a non capire come andava gestita la complessità ma questo lo sintetizzo c'è l'elemento del positivismo cioè noi si pensa di inquadrare oggi la medicina come una scienza con questo atteggiamento positivistico ancora scientistico come se noi fossimo tutti come dire consapevoli che tutto ciò che noi facciamo ha solide basi scientifiche no non è così io sto ancora in corsia da tanti anni e vi assicuro che non è così non è così anche perché noi abbiamo la malattia e abbiamo il malato ma ce l'hanno insegnato i nostri nonni non è che lo lo sto rivelando io oggi e la specificità di ciascun malato irripetibile come ci diceva San Giovanni Paolo II è tutto lì non possiamo continuare a mettere da parte la realtà questi stanno mettendo da parte la realtà coloro che sono abbarbicati a questo scientismo a questo positivismo che dà luogo a che cosa dà luogo al meccanicismo e dà luogo a un altro fenomeno ancora più drammatico che il tecnicismo e questo non tiene conto di che cosa che l'essere umano non è la somma di atomi di cellule e di apparati e di organi no è una armonia armonia ma vera integrata di mente corpo e chi ci crede io credo che ci sia anche l'anima quindi non stiamo parlando di una cozzaglia di atomi come facciamo a come dire semplificare ad abbruttire una dimensione di questa natura qua con i giochetti di questi personaggi che non riesco proprio a immaginare come è evidente che stiamo anche nella crisi della politica perché già solo trent'anni fa determinati personaggi non avrebbero mai calcato lo scenario di tipo governativo ma proprio mi rifiuto di immaginarlo non sarebbe mai successo e quindi proprio perché mi piace raccontarvi alcuni elementi di oggettività che ho in mente e poi ne tralascerò molti altri perché i tempi sono quelli che sono per esempio pensate che c'è chi dice e non è del tutto infondato che noi oggi abbiamo il 50% dei farmaci brevettati che sono abbastanza inutili ma nessuno lo dice ovvero lo dice Garattini e gli va dato merito pensate che le linee guida che per legge anche di questo paese sono diventate il totem cioè le linee guida ma le linee guida noi lo sappiamo che chi le scrive le linee guida bene almeno la metà di coloro che scrivono le linee guida che peraltro io non le ho mai incontrati nelle corsie io sono in corsia ospedaliera da quasi 40 anni anzi siccome l'ho frequentata anche da studente di medicina devo dire che sono anche più di 40 anni bene io di questi linee guidari non ne ho mai visti e vi posso anche dire che è noto che almeno la metà di coloro che scrivono le cosiddette linee guida sono persone che ricavano i loro proventi economici direttamente dalle case farmaceutiche e dalle grosse industrie del farmaco e dei presidi e dell'alta tecnologia e allora io penso che noi dobbiamo riflettere un attimo ripensare a tutto quello che sta accadendo e recuperare che cosa il fatto che noi medici curiamo ma noi non guariamo mai è la natura che può guarire oppure per chi ci crede è sempre il supremo ma noi medici curiamo e basta se siamo bravi curiamo bene ma non abbiamo io quando sento dire ah io salvo la vita tu non salvi tu curi non salvi niente abbandoniamole queste affermazioni che non sono attinenti alla realtà vera la realtà vera ve lo dico io sono più di 40 anni che faccio il medico bene io ho sempre cercato di curare bene non so se ci sono riuscito ma io non mi sono mai sentito padre eterno da fare miracoli o da guarire guarire a me fa quasi paura come parola a parte il fatto che ormai abbiamo a che fare con le cronicità che si sa bene che non guariscono mai e poi un'altra cosa cosa ve la devo dire su questa materia io che sono molto appassionato anche nella lettura dei nostri autori quelli che ci hanno insegnato e quelli che hanno creato e costruito la medicina moderna e quindi sto parlando di Augusto Murri e sto parlando di Frugoni che peraltro aveva scritto anche un codice deontologico quello del 54 bene questi signori avevano in mente e ci hanno insegnato quello che è il metodo clinico un metodo che significa che tu devi partire dalla storia di un paziente devi valutarlo devi possibilmente perché c'è la ritualità che non è fine a se stessa ma molto importante per integrare i dati fisici con i dati strumentali e poi c'è la epicrisi di tutto che passa per una valutazione di diagnosi differenziale e quindi si arriva la diagnosi che è il dato centrale e a questa si aggiunge anche attaccata subito una valutazione prognostica perché tu con la stessa diagnosi devi sapere anche qual è la prospettiva qual è la tua valutazione di ordine prognostico e allora arriva anche la terapia e poi viviamo in un paese malato in un paese malato che tutto questo processo si immagina di conferirlo a chi non è formato per fare questa cosa qua delicatissima e il mio maestro mi diceva anche in anni avanzati della sua età io in medicina ho sempre da imparare però noi abbiamo scritto il codice 566 del 2014 a dicembre in cui abbiamo detto a tutti che problema c'è la diagnosi e la terapia la possiamo conferire oltre che al medico a chi capita ovviamente parliamo di professioni sanitarie è ancora scritto è ancora in legge del paese protetto da quegli organi rappresentativi della professione medica che ancora stanno al governo di cui ho fatto parte anch'io ma in minoranza ma in minoranza tant'è che quando io legittimamente ho ritenuto di ripresentarmi al rinnovo della elezione dell'ordine di Roma ovviamente ho trovato non tutto tutti e tutto contro di me ovviamente ci sono riusciti e vorrei vedere che non ci riuscissero mi fermo qua su quell'aspetto però 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 di quella mia esperienza che è andata avanti per sei anni in fronceo e in consulta di ontologica nazionale dove peraltro devo dire lì non mi lamento perché effettivamente il codice del 2014 sono stato abbastanza protagonista e l'articolo 3 che citava prima ho fatto scrivere di fatto in miniatura l'atto medico perché se voi ve lo andate a prendere lì c'è scritto che la diagnosi e la terapia ai fini della cura della riabilitazione e della prevenzione è esclusiva e non delegabile competenza del medico e questo è di fatto una miniatura di atto medico formalmente scritto peraltro nel codice deontologico all'articolo 3 quindi vi dicevo questa mia esperienza di questi sei anni è stata un'esperienza di cui vado fiero perché effettivamente ho combattuto però ho combattuto contro quel sistema che cercavo di e che ancora sopravvive quel sistema che è privo di concezione privo di cultura privo di un anelito di fare uno sforzo verso l'affermazione della medicina quella che serve ai cittadini non quella che serve a chi la somministra bene quella gente lì è ancora lì peraltro in un contesto nel quale noi ci lamentiamo quando andiamo a votare per le politiche il 70% il 65% sapete quanta gente vota tra i colleghi a Roma quando si legge l'ordine dei medici 14% l'86% sta a casa e questo 14% poi la fa da padrona della ditemi voi se questo è un clima normale io penso che bisogna che voi espandiate queste notizie che vi sto dando e cerchiate di contagiare come dire gli inetti coloro che dormono coloro che pensano che loro non c'entrano niente perché poi capita che entriamo anche negli ospedali e ci accorgiamo che magari c'entri anche se non lo scegli e qui e qui cerco di non andare troppo troppo avanti con i tempi e qui mi viene in mente che stiamo parlando no però una cosa ve la devo aggiungere sulla questione del clima che ho vissuto bene quando io stavo in consiglio nazionale della Coluceo e vi ripeto ci sono stato per i primi quattro anni da vicepresidente di Roma e negli ultimi due anni avendo perso noi il povero Roberto Lala che era il mio presidente ci sono stato poi per due anni da presidente bene nel periodo cruciale in cui si promulgava la 119 eccetera bene vi posso testimoniare che c'era un clima da caccia alle streghe non si poteva produciare mezza parola che fosse critica anche sulle modalità attraverso le quali quel ministro che li aveva tutti sotto botta come si dice questi signori io li ho toccati con mano questo ve lo posso testimoniare proprio a livello personale bene non si poteva tant'è che fioccarono le radiazioni sono state già citate e guarda caso tutte quelle radiazioni nell'arco di pochissimi mesi era un segnale state buoni tant'è che qualcuno mi chiamava perché ricevevano degli esposti anche qui a Roma io li chiamavo tutta gente per bene per fortuna qui a Roma non è passato nulla ma perché c'ero io ma altrove evidentemente qualcuno ha fatto le radiazioni ma le radiazioni per servire il padrone che aveva bisogno di lanciare quei messaggi voi avete più sentito parlare di radiazioni pensate voi che possono avere il coraggio di irradiare me per quello che sto dicendo non credo perché io gli dimostro tutto quello che gli sto dicendo quindi stiamo parlando di un contesto di un contesto che è oggettivamente degenerato ma perché è degenerato ma perché c'è un dissesto ormai del servizio sanitario nazionale perché c'è un'opzione privatistica strisciante l'avete visto tutti perché io sto andando a finire sui giornali perché qui si vuole chiudere Regina Eliana sta diventando una situazione babelica peraltro con alcuni personaggi che a questo punto mi stanno diventando anche simpatici che da un lato stanno distruggendo un servizio sanitario regionale parlo dell'Ace e dall'altra poi hanno la faccia tosta di esprimersi in qualità di rappresentanti non ho capito bene di quale forza politica e dicono guai a chi tocca la sanità guai a chi tocca la sanità pubblica voglio dire ma insomma abbiamo almeno il senso della decenza se non quello dell'onestà che non la pretendo più ormai perché qui mi pare che stiamo andando veramente male mi scusi dottore se l'anticipo due minuti ancora per le conclusioni scusi se la taglio ho finito l'ultima cosa che volevo dirvi è che certamente se io devo tornare al tema dei vaccini io vi dico che la via maestra sarebbe stata quella di abbandonare questo atteggiamento di obbligatorietà andare verso la informazione e qui ho saltato nella mia relazione o nella mia presenza l'aspetto deontologico perché l'ho un po' saltato ma è l'informazione che è alla base di qualsiasi atto medico ma anche di un atto come dire politico-sanitario rivolto alla collettività quindi l'informazione è la persuasione perché tu mi devi informare e persuadermi anche tu da medico quando mi prescrivi una cosa mi devi persuadere mi devi far capire che mi stai dando quella cura perché io devo capire che è quella che va bene per me e mi devi anche convincere che io lo faccio quindi una legislazione seria una volontà seria di normare le vaccinazioni rifugge da questo atteggiamento obbligatoristico che è assurdo e anche umiliante da parte di chi se ne avessero il livello intellettivo lo promuove quindi per concludere consentitemi una mezza battuta io a questa mia relazione che poi la metterò a disposizione in forma molto più valida di quanto io non abbia saputo esprimermela avevo dato un titolo che era quello primum non nocere però oggi vi invito a prendere coscienze qui è lo slogan e la battuta che vi chiedo di concedermi io vi invito a prendere atto con coraggioso realismo che di fatto oggi per una coerenza civile ed etica noi dobbiamo prendere atto che dovremmo trasformare questo vecchio adagio che è ancora valido e quindi vi ho parlato prima di 2500 anni fa ma è ancora validissimo che io in questo momento purtroppo lo traduco in primum profittare perché questo è la cappa che ci sta comprimendo in basso ho finito grazie grazie dottor mi scusi per il taglio ma siamo andati veramente fuori tempo e stiamo limando minuti ormai anche ai prossimi relatori che li avvertono non hanno più 20 minuti ma 15 minuti quindi varo veloce e taglio allora il pedante blogger giornalista autore coautore del libro immunità di legge editorialista del quotidiano la verità editorialista perdonatemi questo la succede ho una domanda fresca fresca per lui perché come sapete il panorama mondiale ci è stato da diversi relatori allarmato in Germania ci troviamo di fronte a una discussione in atto per l'obbligo dell'MMR c'è molto fermento in Germania siamo stati contattati mi è arrivata ora un invito a partecipare ad una manifestazione che ci sarà in Germania contro l'obbligo lì addirittura si vuole modificare un articolo della Costituzione per introdurre l'obbligo chi meglio del pedante può illustrarci un po' le panoramiche della retorica vaccinale globale prego grazie dico subito che gli interventi che mi hanno preceduto hanno reso diciamo superfluo ripetitive molte delle cose che volevo dire e quindi ringrazio Massimiliano di avermi introdotto su un tema ecco io innanzitutto prima di tutto volevo scusarmi perché sono l'unico che si presenta con un nome di fantasia che il consigliere Righini ha definito simpatico e lo ringrazio di questo è il nome con cui scrivo anche sul giornale il nome con cui ho scritto i libri che ho scritto è il nome del mio blog eccetera però in questo caso invece non mi vergogno a dire che in questa circostanza io da cittadino e genitore francamente ho anche una certa ritrosia e paura ad espormi e penso che valga anche per molte delle persone qui presenti perché secondo me più che la paura delle vaccinazioni è la paura di un metodo politico dove senza spiegazioni plausibili e con la protervia di non dare queste spiegazioni si giustifica una violenza che arriva anche appunto a mettere le mani sui corpi delle persone questa cosa mi fa molta paura come genitore non ho paura solo per me stesso e quindi io vi chiedo di perdonare questa libertà che forse sembra anche essere un po' ridicola detto questo voglio ringraziare chi mi ha invitato voglio ringraziare il consigliere Righini ma anche Davide Barillari che è intervenuto io sono cosciente che in Italia come all'estero sicuramente in Europa questo sta accadendo la funzione politica fare i politici è difficile per certi versi frustrante anche come ci ha ricordato Davide ai livelli più alti addirittura a livelli ministeriali anche per un ministro della salute effettivamente lo diceva il dottor Bellavite stiamo in una fase dove la politica ha una funzione in qualche modo notarile la funzione di certificare validare e timbrare delle decisioni che sono state prese altrove e questo mi rendo conto che è molto frustrante e anche molto imbarazzante nei confronti degli elettori e quindi apprezzo queste iniziative apprezzo queste prese di posizione dico però naturalmente che senza avere l'ambizione di mettersi contro l'establishment globale comunque le nazioni che ad oggi esistono ancora ma non è scontato che esisteranno nel prossimo futuro se andiamo avanti con questo ritmo ecco dovrebbero almeno dare dei segnali dei segni di vita e io penso che su questa materia qualche segno di vita lo si può dare se è vero ad esempio che la condizionalità dei diritti scolastici come stanno discutendo oggi in senato potrebbe essere disinnescata e questo sarebbe un segnale fortissimo di controtendenza rispetto alle indicazioni globali Massimiliano ha ricordato giustamente che questo fenomeno appunto è globale ci troviamo di fronte a quella che io chiamo la retorica vaccinale globale per sintesi perché non stiamo parlando di una legge non stiamo parlando di tante leggi come quella locale del Lazio o quella recentemente bocciata in Molise o le ordinanze comunali come quella di Rimini dove si dà una multa al giorno che è una cosa veramente persecutoria incredibile le leggi sono una parte di questo fenomeno che è un fenomeno sociale è un fenomeno politico è un fenomeno proprio di rappresentazione del fare politica che sta attraversando tutto l'Occidente e per certi versi tutto il mondo la legge tedesca con annessa proposta di modifica costituzionale effettivamente mi ha colpito molto perché i paesi tedeschi tradizionalmente sono poco propensi a questo tipo di interventi io ho studiato in Austria e il governo che è caduto recentemente aveva affermato per bocca del suo ministro della salute che quello di rifiutare le vaccinazioni è un diritto umano e quindi il mancato rifiuto delle vaccinazioni scusate la persecuzione di questo rifiuto è una persecuzione dei diritti umani questo il governo è caduto una settimana dopo peraltro non so se con uno scandalo di cui avrete sentito di Ibiza eccetera non so se abbia contribuito anche questa presa di posizione così netta però c'è la Germania in Francia sappiamo ci sono 11 vaccinazioni obbligatorie a partire dai nuovi nati del 2017 l'Argentina ha varato una legge l'anno scorso che è praticamente identica alla nostra e anche quella francese e ci sono dei dibattiti ad esempio sul British Medical Journal sulla possibilità di reintrodurre l'obbligo vaccinale in Inghilterra in Irlanda se ne sta parlando in Portogallo per cui diciamo che è veramente una tendenza è una tendenza globale brevemente come si come si manifesta questa tendenza secondo uno schema che ha portato me ma ancora prima come genitore come scrittore a interessarmi di questo tema nell'incomprensione di tante persone che mi leggono è uno schema dove si parte da un fondamento discusso e discutibile a cui si dà il nome di scientifico lo si dogmatizza eliminando qualsiasi altro concorrente dialettico questo dogma genera un'urgenza l'urgenza genera una violenza una violenza significa un intervento inderoga e come ha ricordato anche Alessandra inderoga a tutte quelle limitazioni e quei contrappesi che la nostra civiltà giuridica ha faticosamente maturato che nel caso italiano sono quelle della nostra costituzione costituzioni che esistono anche in altri paesi e che appunto come dimostra il caso tedesco insomma si oppongono di fatto nei loro principi a questi interventi per Polo Dal Monte ha fatto degli esempi che io condivido l'austerità fiscale come strumento per migliorare i conti pubblici delle nazioni ammesso che migliorare i conti pubblici delle nazioni sia un obiettivo perseguibile a me non interessa ad esempio questo però è un principio discutibile addirittura smentito però porta a un'urgenza fate presto tagliamo servizi sanitari servizi cittadini eccetera delle ricadute sul benessere collettivo il cambiamento climatico ad esempio che è un io naturalmente non entro in questo merito ma so leggendo che è una una realtà scientifica discussa ci sono scienziati che lo sostengono altri che non lo sostengono poi si tratta anche di capire in che misura quali sarebbero le cause però dal cambiamento climatico allora si fanno discendere una serie di obblighi in carico ai cittadini siete troppi l'Africa la dobbiamo deportare in Europa perché cambia il clima eccetera quindi sono in deroga le leggi anche in questo caso la corruzione l'evasione fiscale che dovrebbe portare a maggiori controlli costrizioni la digitalizzazione e altre cose insomma qui siamo esattamente nel medesimo nel medesimo schema quanto tempo mi manca ma signora persona due minuti ecco va bene sì sì ma fa niente avete già detto tutte quelle che mi hanno preceduto nel frattempo abbiamo notizia che questa conferenza già sta girando nel mondo della comunicazione ovviamente con attacchi sotterranei ecco no però io quello che volevo dire è già stato anticipato in parte da chi mi ha preceduto è che queste politiche effettivamente come dice Lavra bisogna capire a che cosa puntano perché una certezza io anche scrivendo il libro e mentre davo le stampe della seconda edizione l'ho maturato insieme a Pierpaolo Dalmonte con cui l'ho scritto è che sicuramente queste politiche non servono lo scopo per cui sono dichiarate anzi anzi sono lesive rispetto a questi obiettivi in altri termini in altri termini io sono anche stupito che i libri che scriviamo questo libro in particolare riscuota successo principalmente tra chi è critico rispetto alle politiche vaccinali in corso o alle vaccinazioni to cure se esiste qualcuno che lo sia perché in realtà quello che noi diciamo è che la retorica vaccinale globale che è fatta di obblighi che è fatta di urgenze che è fatta di violenza è il principale nemico delle vaccinazioni e in quanto è il principale nemico della medicina come ha ricordato Laura in quanto è il principale nemico della scienza questa cosa è dimostrata nei numeri si sono stati citati i numeri sulla fiducia è dimostrata dai fatti perché per mettere la scienza al primo posto per far governare la scienza si ha bisogno che la scienza dica una sola cosa abbia una sola voce e affinché la scienza abbia una sola voce bisogna perseguitare tutte le voci contrarie a quel punto si perseguita la scienza e la scienza non può più né governare né parlare né soprattutto contribuire al benessere delle persone allora concludo concludo Massimiliano concludo con una con una citazione che mi sono segnato dal libro ma non l'ho scritta io l'ha scritta una giornalista molto più famosa di me è una giornalista del New York Times si chiama Melinda Werner Mayer è assolutamente favorevole alle vaccinazioni ha una massima diffusione delle vaccinazioni una massima adesione del pubblico alle vaccinazioni un editoriale del New York Times dell'anno scorso il 2018 scriveva quando ho provato come giornalista a dare spazio ad alcuni aspetti imprevisti o controversi sull'efficacia e la sicurezza dei vaccini gli scienziati spesso non volevano più parlarmi dopo averli finalmente raggiunti al telefono intuì una verità inquietante che sono così terrorizzati dall'esitazione vaccinale del pubblico da censurare se stessi minimizzando le scoperte indesiderate e forse anche evitando di condurre studi da cui potrebbero emergere effetti indesiderati coloro che violano queste regole non scritte sono criticati certo lo scopo è di proteggere il pubblico di far sì che un maggior numero di persone si affidi alle vaccinazioni ma nel lungo termine questo approccio sarà controproducente il nostro arsenale di vaccini eccezionale è vero ma può sempre migliorare il progresso richiede onestà scientifica e la volontà di porsi domande scomode oggi siamo esattamente arrivati a questo punto oggi in nome del progressismo noi stiamo bloccando il progresso scientifico stiamo distruggendo la fiducia delle persone nel progresso scientifico e nella ricerca scientifica nei suoi risultati e nei suoi protagonisti questa ritorica e queste leggi e queste esitazioni da parte della politica a dare risposte a questo problema enorme secondo me può portare usando il termine che ha usato Alessandra ma anche io lo scrivo nel libro veramente a un capolinea della conoscenza e a un abbandono delle persone della medicina non solo delle vaccinazioni con dei risultati veramente gravissimi sulla salute globale grazie una comunicazione veloce qualcuno prima mi chiedeva una copia del libro Vaccini si obbligano al professor Bellavite il professore ne ha qualcuno magari dopo rivolgetevi a lui direttamente vi ricordo che il ricavato va interamente devoluto per borse di studio in campo medico procediamo ora con l'avvocato Stefano Repaulis responsabile del team legale di Assis il suo tema sarà l'accesso a scuola le segnalazioni al tribunale dei minori per i bambini immunero e pressi ci sarà un'illustrazione della pubblicazione del dottore Eugenio Serravalle presidente dell'associazione Assis e aggiungo con questa comunicazione demoliremo insomma la proposta 143 ovviamente prego salve a tutti ringrazio Massimiliano Paolini ringrazio il Comilva che ci ha dato questa opportunità a noi come Assis di partecipare e di dire la nostra ringrazio l'onorevole Erichini che si è fatto promotore in regione Lazio di questa iniziativa di contrasto a questa proposta di legge che veramente non ha né capo né coda porto i saluti del dottor Serravalle che appunto avrebbe dovuto illustrare un articolo ormai in pubblicazione sulla rivista Terapia d'Avanguardia proprio sulla proposta di legge Zingaretti sulla esclusione dalle scuole dalla frequenza per i bambini non vaccinati in presenza di bambini immunodepressi si è voluto usare un fatto di crona che abbiamo allora io volerò basso in un certo senso abbiamo volato alto abbiamo trattato tanti temi alti qui andiamo un pochino più sul tecnico anche perché tutti i temi alti li abbiamo già affrontati abbondantemente hanno usato i bambini immunodepressi come una clava nei confronti di bambini sani diciamolo perché i bambini non vaccinati sono bambini sani non sono bambini affestati malati io vorrei far riflettere Zingaretti e tutta la sua cricca perché ormai di questo si tratta scusate se uso anche dei termini un po' di critica politica però non riesco a farne a meno nella scuola oggi per legge dello Stato possono frequentare dei bambini malati che hanno l'epatite B o hanno l'HIV in totale anonimato del personale scolastico oltre che delle famiglie abbiamo assistito in questo anno e mezzo due anni di legge Lorenzin alla messa all'indice di bambini sani con appunto famiglie esposte possiamo dirlo al pubblico ludibrio perché i figli non erano vaccinati in mezzo ai corridoi delle scuole sulle scale delle scuole una cosa incredibile veramente come diceva il dottor Del Monte la fascetta gialla era giusto un di più ma lo era di fatto lo è stato di fatto la pubblicazione del dottor Serravalle appunto è incentrata a cercare di smontare questa favola dei bambini immunodepressi non perché non esistano o non debbano essere tutelati ma perché ci sono vari tipi di immunodepressione io lo farò in maniera molto veloce perché appunto non essendo un medico non posso addentrarmi troppo in termini e in argomenti di natura sanitaria tutto nasce da un antefatto da un bambino degli elementari che sottoposto a terapia chemioterapica era ovviamente in una situazione di immunodepressione e nella nella classe si ritrovava cinque bambini non in regola quindi o non vaccinati o parzialmente vaccinati e quindi subito Zingaretti ha lanciato questa proposta dice dobbiamo tutelare il diritto all'istruzione di questo bambino e di tutti i bambini immunodepressi che per fortuna sono una percentuale molto molto bassa e quindi dobbiamo fare qualcosa in realtà per tutelare veramente i bambini immunodepressi e nello specifico questo bimbo che era sotto terapia chemioterapica il fatto che tutti i compagni fossero vaccinati è stata una misura residuale ho avuto modo di parlare con il collega che ha tutelato la famiglia di questo bambino e grazie al confronto sono state approntate in confronto anche con il personale sanitario altre e ulteriori misure come per esempio l'ingresso e l'uscita da scuola in orari differenziati come dei dispenser di amuchina nelle classi per ridurre al minimo e altri dispositivi perché la vaccinazione in sé fermo restando che ci sono i fenomeni dei lo rispondere o dei non rispondere potrebbe non essere una misura sufficiente dato che ci sono centinaia di altri patogeni che potrebbero attaccare un organismo immunodepresso e quindi se noi andiamo a guardare il solo dato burocratico non andiamo a tutelare le persone immunodepresse ci mettiamo a posto la coscienza e lì finisce poi quello si prende un altro tipo di infezione ma non si è preso il morbillo ma magari è morto per una banale influenza paradossalmente quindi questo è un aspetto molto importante perché tante volte appunto noi abbiamo assistito come già stato detto ad una narrazione ad una bellissima favoletta che è un vero e proprio programma di marketing globale come ha detto il petante parlando della retorica vaccinale globale è un programma di marketing e come tale ha diciamo coperto tutti gli aspetti l'aspetto scientifico l'aspetto comunicativo l'aspetto tecnico e anche politico uno dei punti di attacco è stato proprio sull'esitazione vaccinale di cui si parlava prima è stato uno studio del Censis presentato a settembre 2014 in cui si evidenziava che questo fenomeno di esitazione e per esitazione si intende un po' tutto l'esitazione come quella diciamo mediata cioè genitori che decidono di fare soltanto alcuni vaccini oppure di iniziare successivamente a quello che è il calendario proposto un percorso di vaccinazione il fenomeno dell'esitazione illustrava fotografava dei genitori attenti e preoccupati più della media alla salute dei loro figli non i caproni che si informano su Google è esattamente il contrario sono riusciti abilmente avendo ovviamente le leve della comunicazione a far passare questo messaggio come un mantra ti informi su Google tu non sei medico perché vuoi fare di testa tua perché voglio fare di testa mia da genitore voglio tutelare la salute di mio figlio la responsabilità è la mia la responsabilità non è del medico come è stato anche detto dai medici presenti oggi la responsabilità rimane in capo ai genitori non ce lo possiamo mai dimenticare abbiamo una responsabilità da genitore e una responsabilità da cittadino questi due aspetti sono intimamente connessi tra loro se noi appunto non consideriamo questo chiaramente appunto possiamo andare avanti si scardina quel principio per cui il corpo è inviolabile ci affidiamo ad altri questa deresponsabilizzazione ormai generalizzata abbiamo visto che ha coinvolto anche la politica la politica non decide perché decide la tecnica decide la scienza addirittura ci sta chi sta lanciando dei messaggi per cui l'intelligenza artificiale potrebbe sostituire le decisioni dei politici un domani dei robot potrebbero operare meglio dei chirurghi non c'è limite se noi non mettiamo noi dei paletti oggi da cittadini a questa deriva non c'è limite a farci considerare sempre di più come dei semplici numeri dei semplici produttori e consumatori allo stesso tempo capre pecore da tosare il famoso greggio c'è un applausi tornando alla critica sulla legge la proposta di legge regionale bisogna fare quindi un'attenta valutazione dei rischi e benefici delle vaccinazioni dobbiamo sapere che ci sono delle immunosoppressioni delle immunodepressioni che possono sostenere delle vaccinazioni e altre invece che non le possono sostenere abbiamo diversi tipi di vaccini ce li abbiamo a virus vivi a virus vivi attenuati inattivati ce li abbiamo di vario tipo tutti questi possono o non possono essere inoculati a dei a dei soggetti immunodepressi a seconda del tipo di immunodepressione se noi non facciamo questo tipo di analisi preventiva il buttare fuori dei bambini per farne studiare altri non è altro che una mera discriminazione in questo caso uno vale uno io mi ricordo un articolo del professor Bellavite di qualche tempo fa in cui faceva con ovviamente tutto un calcolo anche matematico per salvare uno con la vaccinazione ne ammazzi un altro non vale in guerra purtroppo per esempio non vale questo principio per salvare un soldato ferito rischi di ammazzarne un altro era un parallelismo più o meno di questo tipo come? così rischi di averne due azzoppati invece di uno solo è brutale come logica però dà un po' l'idea dobbiamo sempre avere il focus sulla persona e sulla dignità umana questo appunto viene messo in discussione da questa proposta di legge che è pericolosa anche per un altro motivo perché si innesta in tutto questo quadro normativo e politico in cui potremmo assistere anzi sicuramente assisteremo anche ad una recrudescenza del fenomeno delle segnalazioni al tribunale per i minorenni nel caso appunto di mancato recupero vaccinale allora le segnalazioni ci sono sempre state le ultime che sono state fatte di un certo rilievo risalgono al 2012 2013 in Emilia Romagna erano fatte molto per proforma in un certo senso venivano gli assistenti sociali bussavano quasi scusandosi almeno in diverse occasioni che ho avuto modo di riscontrare facevano la relazione negativa e finiva lì proprio perché già allora evidenziavano questa maggiore attenzione maggiore cura nell'accudimento dei figli nei genitori che propendevano per questa esitazione vaccinale oggi questo viene comunque messo in discussione ci sono dei casi di segnalazioni al tribunale per i minorenni ancora su situazioni come dire sul filo quindi figli con genitori separati con situazioni critiche ecco il caso di Bibiano fa riflettere perché in determinati contesti si potrebbe anche arrivare a ipotizzare un esempio ci sta una certa difficoltà economica della famiglia non sono vaccinati i bambini via li diamo in affidamento ai servizi sociali è una prospettazione che potrebbe avere un suo fondamento come si contrasta questo si contrasta con l'assunzione delle proprie responsabilità di genitore e di cittadino come dicevo prima il livello di confronto dei genitori nei confronti delle ASL dei medici deve essere quello del cittadino non del tipo a meno che non si è ricercatori che sventola ricerche studi scientifici io degli studi scientifici non me ne faccio nulla molto spesso posso leggere l'abstract ma non ho dimestichezza non ho il polso di questa di queste pubblicazioni io devo esercitare il mio essere cittadino attraverso il dubbio ponendo delle domande dei quesiti a cui esigo risposta i genitori che decidono di non vaccinare secondo i calendari proposti dal ministero lo fanno perché hanno timore come è stato appunto recentemente rilevato anche da questa ricerca di aerobarometro che ha evidenziato questo 50% di persone che in seguito all'introduzione dell'obbligo hanno come dire alzato le antenne quindi la parte informativa è fondamentale un'informativa corretta fate domande semplici chiare perché avete deciso di non procedere alla vaccinazione così come ve l'ha proposto il vostro medico quali sono quei due tre punti importanti partite da quello ascoltate le risposte registratele su un taccuino perché è importantissimo questo passaggio importantissimo per voi per capire se la vostra scelta ha un fondamento o meno ed è importantissimo anche in chiave conseguentemente di contrasto sia alle sanzioni amministrative sia alle possibili segnalazioni al Tribunale dei minori oggi come oggi c'è ancora una giurisprudenza che è abbastanza granitica sul punto per cui la mancata vaccinazione come unico elemento non è sufficiente a attuare un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale quindi da questo punto di vista anzi ci sono state delle pronunce post legge Lorenzin che hanno rimarcato questo aspetto quindi questa è una notizia che dovrebbe rincuorare tutti e almeno un certo tipo di magistratura ancora regge nel siamo già oltre il tempo ok allora cerco di andare a chiudere quindi chiudendo appunto cerchiamo di rimanere cittadini cerchiamo di rimanere genitori sempre io sono avvocato ma sono a mia volta un genitore che si è posto delle domande se ci riappropriamo delle nostre responsabilità che invece si tende a tralasciare potremmo porre un argine e far capire anche alla classe politica di riappropriarsi a sua volta della sua capacità di decidere delle sorti di un popolo questo è fondamentale ognuno deve fare la propria parte soltanto così potremmo continuare a tutelare i nostri figli a tutelare il nostro essere cittadini e anche lo Stato la nazione in cui viviamo grazie grazie avvocato l'ultimo relatore invito il professor Livio Giuliani del Codacons diciamo che l'occhio vigile del Codacons in questi ultimi due anni inarrestabile il lavoro del Codacons ha portato alla luce tantissime informazioni utili anche al fine di cui mi ricollego ciò che sta dicendo ora l'avvocato le 30.000 segnalazioni di reazione avversa o quant'altro ma facendo questo lavoro siamo andati anche a scoprire altre cose lascio la parola al professor Giuliani grazie agli organizzatori di avermi invitato grazie a voi che siete venuti qui ad ascoltare e ai relatori che mi hanno preceduto si è parlato dei rapporti con il potere esecutivo i ministri questa ineffabile grillo che non avendo le capacità di comprendere e neanche di non sapere di di non sapere si affida agli esperti del Consiglio Superiore di Sanità ignorando per esempio norme imperative che riguardano anche altri pareri obbligatori e abbiamo avuto riferimento al potere legislativo si discute si è discusso appunto dei disegni di legge regionali nazionali ecco io cercherò di dare una prospettiva di quelle che sono le relazioni in materia di lotta alla vaccinazione obbligatoria con il potere giudiziario comincerei da questo documento io avevo preparato una relazione per 40 minuti perché così me l'ha stato detto adesso la cerchiamo di ridurre al minimo questo è il documento con cui l'AIFA il 10 maggio 2017 ha risposto al procuratore sostituto al procuratore della Repubblica di Torino che nell'ambito di un'indagine aperta sulla nostra segnalazione all'inizio del 17 stava cercando di stabilire se nel se sussistevano dei reati nella commercializzazione obbligatoria nella commercializzazione dell'infantrix EXA in relazione al fatto che veniva utilizzato questo esavalente in luogo di vaccinazioni monovalenti tali da soddisfare l'obbligo vaccinale in pratica il Codacon si aveva prospettato esiste un abuso di ufficio diffuso che fanno le ASLE e i medici vaccinatori che surrettiziamente impongono un'ESA valente quando l'obbligo nazionale è per quattro vaccinazioni con un danno che era stato stimato da diverse valutazioni in 280 milioni di euro l'anno non poco in una sanità dove venivano chiusi ospedali e corsie o reparti importanti il PM aveva cominciato con una certa solerzia e aveva adito alla aveva sì alla richiesta che avevamo fatto di ordinare all'AIFA di produrre i dati delle segnalazioni che mancavano da tre anni mancavano dal 2014 nel 2017 ma è estremamente significativo questo documento dell'AIFA e secondo me andrebbe portato nelle scuole come esempio di maleducazione civica l'AIFA risponde innanzitutto va detto non con il suo presidente ma con un avvocato un dirigente avvocato che fa delle affermazioni pesantissime dal punto di vista scientifico per giustificare per esempio cinque omicidi o quello che possiamo ipotizzare naturalmente da privati come omicidi allora la cosa più significativa è che le cose vengono distinte come segnalazioni gravi segnalazioni in generale segnalazioni gravi e ne vengono elencate alcune migliaia oltre 4.000 solo dovute all'AIFA in tre anni ma a un certo punto alla fine di pagina 4 non so se ci sono arrivato c'è questo ineffabile incipit del periodo si segnala infine che nel periodo degli esami si sono verificate cinque reazioni gravi che hanno determinato il decesso del paziente si segnala infine di segno si fornisce il dettaglio degli eventi avversi con allegazione relative schede nel 2014 ci sono registrati due decessi regione Piemonte segnalazione 242.813 infrarix exa e prevenar 13 morto improvvisa neonato pretermine 30 settimane vaccinata all'età di 9 settimane di vita anagrafica quindi in tutto 39 settimane per sospetta SIDS il giorno della vaccinazione nella scheda di decesso allegata nella rete nazionale di farmacovigilanza viene indicata come sospetta causa di morte l'enterite emorragica regione lombardia segnalazione numero TA sempre infrarix exa e previnar insieme la segnalazione è stata ricevuta solo nel 2016 la morte del paziente avvenuta in ospedale non è stata ritenuta correlata alla vaccinazione e la segnalazione proviene dalla ditta cioè la Glaxo che si spaventa del fatto che magari in Svezia qualcuno scopra questa cosa e dica la Glaxo non ha segnalato un caso avverso grave un caso di decesso e allora è lei che la segnala due anni dopo nel 2016 perché la nostra farmacovigilanza funziona così i nostri ospedali dicono che non c'è correlazione quindi non segnaliamo niente questo è in regione Lombardia come la chiamava Formigoni che è riuscito a fare cinque mesi di 67 che ne deve fare di galera è chiaro che con questo tipo di 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 sistema penale si va alla grande nessuno ha perseguito ha cercato questo PM non dico il nome questo PM non ha pensato di andare ad accertarsi di chi è che aveva mancato questa segnalazione per fare non dico una un'imputazione di di occultazione di cadavere ma dico almeno di omissione di atti d'ufficio questo la poteva fare non se ne è preoccupato per niente i nostri magistrati sono come i medici di quell'ospedale cioè vedono i reati ce l'hanno sotto gli occhi come in questo caso ma se ne strabuggerano perché è lavoro è fatica è in Italia è meglio prendere 130.000 euro al mese all'anno di media come fanno i magistrati senza fare nulla è più facile e si sta meglio allora nel 2015 si è registrato un decesso in Sicilia segnalazioni sempre infarix hexa e previnar 13 in più anche rotarix nel 2016 regione Piemonte il decesso era nata di 34 settimane vaccinata all'età di 11 settimane qui sono stati più generosi gli hanno concesso 45 settimane dal concepimento prima di vaccinarla a quella povera prima che abbiamo letto 39 cioè 9 mesi esatti è come vaccinare con la stessa dose uno appena nato ma ci direbbe questi grandi scienziati come Silvestri che non sa fare il conto della serra per stabilire qual è la concentrazione di un inquinante all'interno di un vaccino e spaglia di 10 alla 9 non fa errori da poco ci direbbero che il farmaco dipende la quantità del farmaco dalla concentrazione dipende dal peso ed è a tutti evidente che il peso di un neonato oppure di un bambino concepito 39 settimane fa non è esattamente la cosa uguale a uno di 50 settimane di 48 settimane come dovrebbe essere il minimo per vaccinare ebbene nessuna nessuna nessun problema nessuno se ne accorge il PM eppure gliel'abbiamo scritto guarda che lì ci sono scritte queste cose sono state fatte delle memorie ma il PM ci passa sopra ebbene andiamo a vedere ancora avanti il commento di come si giustifica l'AIFA e come giustifica il sistema sanitario italiano si evidenzia che la SIDS è una delle più frequenti cause di morte nel primo anno di vita con un'incidenza stimata di un caso di 700.000 bambini nati vivi diversi studi condotti negli anni scorsi hanno dimostrato lo dice un avvocato che evidentemente è in grado di valutare questi studi probabilmente perché nel suo curriculum ha una laurea perlomeno un dottorato in biologia quantomeno in microbiologia ma questo è una cosa ricorrente sapete che il responsabile la responsabile dell'organizzazione mondiale della sanità Europa Susanna Jakab è laureata in scienze politiche a Budapest non ha nessun altro tipo tranne un corso fatto in Svezia di management amministrativo della sanità ebbene quando poi abbiamo chiesto al ministero della sanità quali erano gli obblighi internazionali che preludevano a questo impegno italiano nella vaccinazione cosa che c'è nelle due circolari guerra emanate addirittura prima che ci fosse la conversione in legge che esordiscono vuol dire anche la legge stessa della Lorenzin fa un riferimento a obblighi internazionali sapete che ci hanno risposto ma c'era una lettera di della organizzazione mondiale della sanità Europa cioè noi abbiamo fatto tutto questo casino abbiamo parlato di di malattie epidemie necessarie perché perché una laureata in scienze politiche a Budapest sottosegretaria trombata a Budapest e mandata all'organizzazione mondiale della sanità avrebbe impegnato internazionalmente l'Italia questo è quanto è venuto fuori non ci sono altri impegni internazionali che vengano citati senza arrossire non l'agenda la global health security agenda americana del 22 settembre del 2014 quella ovviamente alla nostra richiesta si sono guardati bene di citarla hanno citato l'organizzazione mondiale della sanità e cosa c'è di più santo di un'organizzazione che per 30 anni ha nascosto il rischio del fumo per esempio per dirne una delle cose delle sue malefatte ma che poi oggi è caduta in mano a una sottosegretaria trombata di un governo ultraatlantico semifascista come quello ungherese bene ci dice che in queste e allo stesso modo la nostra avvocata noi abbiamo all'AIFA un'avvocata che si permette di scrivere a un pubblico ministero facendo delle asserzioni sugli studi che ci sono stati fatti e vediamo che asserzioni vediamo le asserzioni ecco qua scusate sono andato troppo avanti diversi studi condotti negli anni scorsi hanno dimostrato che non esiste alcuna relazione causale tra l'esposizione dei vaccini e la SIDS e che l'incidenza della SIDS è la stessa sia in presenza che in assenza di vaccinazione su questo tema andiamo un po' più avanti negli anni scorsi sono stati pubblicati ci dice quali studi due ampi studi condotti rispettivamente in Italia lo studio ERA e in Germania lo studio Token lo studio ERA ha valutato il rischio di morte improvvisa dopo la vaccinazione dei bambini nati dal 1999 al 2004 circa 3 milioni di bambini in questi anni sono nati e non ha riscontrato una possibile relazione causale tra i vaccini somministati e l'insorgenza di morte improvvise ecco questa signora non sa qual è il portato scientifico di uno studio caso controllo questo studio è stato condotto così sono andati a vedere i SIDS i morti e poi hanno cercato di stabilire le possibili cause che attraverso schede anamnestiche potessero essere identificate come possibili cause di questa morte ma il problema centrale è che evidentemente soprattutto gli epidemiologi sanitari ma ancora peggio gli avvocati che fanno sanità invece di fare gli avvocati non sanno è che lo studio caso controllo non è uno studio di necessità cioè quello su cui indaga non è la condizione necessaria ma è uno studio di sufficienza se per esempio voi prendete i morti tutti i morti attuali in un certo periodo e andate a vedere magari in una città tranquilla non a Reggio Calabria e andate a vedere quanti sono morti per arma da fuoco voi stabilite che non c'è nessuna causalità nessuna correlazione meglio perché perché sanno pochi i morti per arma da fuoco molto di più per esempio gli incidenti stradali molto di più l'infarto il tumore molti di più sono praticamente risibili quindi nessuna se fate il P oppure il test di student non c'è nessuna correlazione ma questo significa che la morte non è condizione che per la morte non è condizione necessaria lo sparo quella è solo condizione sufficiente ma è sufficiente cioè ammazza ecco è questo che non viene considerato in questi studi la SIDS non è causata perché su 3 milioni di bambini i casi di SIDS nella maggioranza sono dovuti anche ad altre cose può darsi ma il problema è se la vaccinazione in questi casi particolari è stato motivo sufficiente di più non adeguatamente culturalmente formata per capire di scienza di più non sa un'altra cosa che non basta l'epidemiologia per stabilire il nesso causale esistono altre indicazioni altrettanto importanti per esempio esiste la plausibilità biologica lei non ha notato che in tutti e cinque i casi è stato somministrato infarix exa insieme al premio artredici non ha fatti conti per esempio su che significa questo in termini di in termini di inoculazione di alluminio non sa che la food and drug administration ha stabilito un limite per l'alluminio in 0,885 milligrammi per le singole somministrazioni peraltro somministrazioni anche attraverso i cibi che hanno quindi di cui solo il 3% mediamente viene trattenuto mentre qui si tratta di inoculazione ebbene se si somma infarix exa l'adjuvante di infarix exa con l'adjuvante di premio artredici si ottiene 0,995 cioè abbiamo un superamento rispetto a quello che è il massimo per una somministrazione alimentare secondo la food and drug administration non ci sono limiti in Italia perché i limiti si fa perché in Italia si fanno le vaccinazioni obbligatorie senza stabilire qual è il quadro il quadro e stabilire delle regole senza quindi normazioni le regole tecniche le regole tecniche si lasciano anzi è stata fatta una legge apposta da Lorenzin per strapparle all'istituto superiore di sanità che era un suo compito ex articolo 6 comma 1 lettera I scusate 6 comma 1 la lettera adesso non me la ricordo della legge di riforma sanitaria consulenza allo Stato era solo due erano gli istituti l'Ispesle e l'istituto superiore di sanità beh lei ha fatto una legge per cui adesso le norme guida non le fa più l'istituto superiore di sanità ma le fanno le società scientifiche e professionali della professione medica il risultato il risultato è che le fanno i loro la conseguenza che le fanno praticamente i loro finanziatori e noi abbiamo in un altro documento che non ho qui il tempo di far vedere verificato che delle decine di milioni della della Glaxo molte molte gran parte viene destinata a queste società ma qui arriviamo a questo proprio me lo devi concedere proprio un minuto andiamo avanti in questa cosa al di là dopo dopo la citazione di questi studi di causa di di caso controllo come lei dice un'altra cosa inoltre in riferimento alla vaccinazione dei neonati prematuri una recente nota della società italiana di neonatologia ha ribadito dove le linee guida sull'immunizzazione attiva raccomandano che i bambini nati prematuri indipendentemente dal peso alla nascita siano vaccinati alla stessa età cronologica dei bambini nati a termine ossia a partire dal compimento del sessantesimo giorno di vita rispettando così le norme procedurali valide per i neonati a termine in altre parole la società italiana di neonatologia avrebbe fatto un documento noi immaginiamo scientifico non un guizzo del suo presidente che significa niente magari quel giorno abbia avuto un po' ma non è un documento scientifico non c'è nessun referi che l'ha visto ma di questo si tratta si tratta di un guizzo del suo presidente firmato anche dal direttore generale e questa avvocata lo cita senza ovviamente averlo consultato vedete qui c'è il suo sito se ci è interessato se lo segno perché è veramente interessante questo 3 la nota 3 l'HTTP quello è il documento della società italiana di neonatologia io sono andato a leggerlo e sapete che fa la società italiana di neonatologia non la società il suo presidente scrive appunto questa fregnaccia motivandola a sua volta con un'altra citazione la citazione che fa andate a vedere anche là debitamente messa la nota uno va a guardare la nota e cosa trova? un documento semi pubblicitario della Glaxo questo è il livello scientifico sulla base di questo livello scientifico viene steso un velo su 5 morti tutte nello stesso modo causate da somministrazione contemporanea di vaccini tale che il solo adiuvante tralasciando gli inquinanti non dichiarati metalli pesanti che sono stati trovati e sono stati trovati perché poi questo PM ha fatto ha incaricato prima l'università di Torvergata che li ha trovati però ha criticato il metodo e si è ritirata poi da un farmacologo professore associato non andava bene un ordinario magari ci sono i Nobel come i montagnieri che sono contrari alla vaccinazione obbligatoria ma questo invece un associato di farmacologia fa da consulente tecnico del PM e conclude che tutto è trascurabile e non c'è bene al di là comunque degli inquinanti non dichiarati questo PM non si accorge ma noi gliel'abbiamo scritto che c'è un superamento di quella che è forse qualcosa di meglio di una linea guida o di un documento che non è neanche una linea guida del presidente della società italiana di una neonatologia un documento della Food and Drug Administration che suggerisce quale è la possibile vera causa di queste morti tutte uguali tutte fatte con una vaccinazione combinata ecco davanti ed è qui concludo davanti a queste situazioni davanti cioè al fallimento perché poi questo PM ha ottenuto l'archiviazione nonostante noi ci fossimo a posti non ho qui il tempo di farvelo portata di farvelo vedere ma è un'ordinanza del GIP di una paginetta in cui sostanzialmente il GIP si rifiuta di esaminare le considerazioni della parte offesa il Codacons si rifiuta perché dice che è stata condotta con tale vastità di 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 indagini di approfondimenti l'indagine fatta che sicuramente ha esaminato tutti gli aspetti della vicenda e ha cita appera una sentenza di gassazione che riguarda altri casi in cui si dice che quando è evidente questo lo dice pure il codice quando è evidente la fattispecie esaminata si può archiviare se è evidente la mancanza di elementi di elementi penali una situazione appera per dire non ho nessuna voglia di leggermi le carte e non sentenzio una pagina non più di una pagina di motivazione noi a questo abbiamo deciso adesso di fare ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo per mancata giustizia per delegata giustizia e vedremo se sarà accolta però questa è la situazione se noi abbiamo dei morti che non vengono neanche indagati considerati siamo come nel caso di Cucchi e da PM che cercano di avere quattro paghe per il lesso come diceva il giusti beh sarà ben difficile andare avanti e io credo che comunque dovrà venire il momento in cui le denunce le firmeremo in migliaia perché quando le faremo firmate in migliaia sarà un po' più difficile far finta di niente e la parte offesa non sarà una sola grazie Livio perdonaci per i tempi ma siamo partiti in ritardo lasciaci le no quelle non ce le puoi lasciare va bene i documenti perché facciamo un montaggio video va bene te lo dico dopo dunque siamo alle conclusioni il consigliere Righini ha un impegno urgentissimo quindi lascio a lui le sue conclusioni poi ci lascia e noi continuiamo con le domande dei genitori e un intervento mi chiedeva il professor Bellavita un intervento rapido grazie allora grazie grazie al contributo straordinario che i relatori oggi ci hanno fornito io esco ancora più rafforzato nei miei convincimenti cioè che questa sia una materia che merita sicuramente un approfondimento spero che la politica ritrovi un po' di autorevolezza rispetto ai temi posti perché è evidente di tutta evidenza come ci sia sicuramente un difetto di coraggio da parte della politica nell'analizzare dati che sono oggettivamente sconvolgenti se si dimostra documentalmente statisticamente che i picchi di morbillo dall'introduzione del vaccino obbligatorio sono rimasti immutati rispetto ai precedenti 15 anni e che la diminuzione di casi dall'inizio del novecento probabilmente saranno legati in diversi stili di vita ad una maggiore igiene personale credo che questo debba far riflettere e sorprende che a fondamento della proposta di legge 143 della regione Lazio si citi proprio il raggiungimento della soglia del 95% consente di arrestare la circolazione dell'agente patogeno e quindi di tutelare soggetti fragili che a causa delle loro condizioni di salute non possono essere vaccinate per tutte le malattie occorre considerare poi abbiamo il passaggio quello insomma intorno a cui ruota un po' tutta la vicenda e cioè si dice che i 3840 casi di morbillo in Italia e tre decessi dimostrano l'esistenza di una epidemia anche grave poi apprendiamo che ci sono cinque decessi mi sembra del tutto correlati rispetto alla somministrazione dei due farmaci come diceva il professore che mi ha preceduto nell'intervento anche perché uno di questi è stato riconosciuto dalla stessa casa farmaceutica che diciamo non dovrebbe avere interesse a riconoscere una responsabilità ma se lo fa evidentemente c'è stata e c'è una correlazione probabilmente la somministrazione congiunta dei due farmaci per carità però questo dimostra come nel nostro paese ultimamente principi cardine come il principio di precauzione o come quello del consenso informato vengano totalmente calpestati e credo che intorno a questo principio giuridico ovviamente supporto del quale abbiamo anche tutta questa casistica anche scientifica che oggi ci è stata illustrata dovrebbe ruotare un po' la riforma di questo obbligo vaccinale insomma si fa fatica a chiarire i contorni l'avvocato Devetag ci diceva come un'imposizione rispetto alla somministrazione di un farmaco dovrebbe coincidere con un pericolo dimostrato di epidemia che insomma non mi sembra di ravvisare nei dati statistici del nostro paese rispetto a tanti altri paesi anche dell'Unione Europea o casi come dei paesi quelli dei paesi africani dove probabilmente è evidentemente sottostimato il numero di decessi correlati alla somministrazione dei vaccini se non altro sarà un po' più difficile acquisire informazioni magari documentalmente e poi poterle ovviamente rendere un dato statistico perché magari il villaggio sperduto del Congo si farà fatica ad associare il decesso alla somministrazione del farmaco come veniva detto verrà più che altro affidato alla stregoneria della mancata terapia precisa dello stregone del villaggio ecco tutti questi casi credo ci debbano far riflettere io lo ringrazio i relatori anche perché non ho notato toni da estremisti credo che si siano documentati su Google che è l'accusa più ricorrente che viene rivolta chi ha il coraggio di dire guardate c'è qualcosa che non va in tutta questa vicenda e quindi su questa proposta di legge sulla 143 che è quella che direttamente ci riguarda perché siamo all'interno della sede del consiglio regionale Lazio mi unisco alla disponibilità a battaglia che è già stata annunciata dal collega Barillari perché credo che qui si affermino una serie di principi che insomma poi vanno anche oltre l'obiettivo di dare una risposta sanitaria ai cittadini della regione Lazio è evidente che c'è anche una battaglia politica intorno a questa proposta di legge di cui si ribadiva nelle premesse la necessità d'urgenza di intervento ecco la proposta di legge è del 16 aprile siamo alla fine di luglio noi la settimana prossima saremo in aula per riformare il piano territoriale paesaggistico regionale quindi in materia urbanistica che concluderemo intorno al 10 di agosto dopodiché ci sarà la chiusura del periodo estivo quindi di questa legge comunque non si parlerà prima della metà di settembre insomma credo che anche l'urgenza paventata vada a farsi friggere e quindi questo dimostra come in realtà questa proposta di legge ha obiettivo all'obiettivo diverso da quello che viene rappresentato e cioè quello di introdurre sempre questo dibattito l'obbligatorietà dei vaccini il pericolo delle epidemie insomma qualcosa che si fa sempre più fatica a poter circoscrivere a cosa è cosa scatena questa vis compulsiva legislativa rispetto a dei fatti che non sono non ravvisano sicuramente né il rischio di epidemie e ancor meno di decessi se non quelli a cui abbiamo assistito in un esposto fatto alla Procura della Repubblica da un autorevole rappresentante di tutela dei consumatori credo che quindi questi dati debbano far riflettere io continuo ad approcciare come ho detto all'inizio del mio intervento con quello che mi dà sempre mi anima cioè invidio chi accertirsi su temi come questi quindi mi approccio a questa materia dubitando dei dati di chi ritiene che tutto sia correlato alle responsabilità dei vaccini l'ha detto il professor della vite e lo diceva il professor Genovese nell'intervento in apertura che è stato proiettato i vaccini hanno svolto un compito importante nella storia dell'umanità ma come tutte le cose poi si finisce per abusarne è chiaro che da un beneficio dove si possa quel beneficio si possa tradurre in un qualcosa di diverso e di nefasto per l'incolumità e per l'umanità quindi credo che noi dovremmo approcciare con questa materia con rigore scientifico analizzando anche i dati statistici che non possono essere trascurati anzi che devono essere tenuti in grande considerazione e fondandoci anche su dei presupposti giudici come quelli che ci sono stati rappresentati dagli avvocati di Assis che ringrazio a Stefano dall'avvocatessa Deve Tag perché credo che ci si debba animare anche nel rispetto dei principi costituzionali che sono stati richiamati insomma quelli non possono essere modificati nell'interno dell'aula della Pisana sono i capisaldi intorno a cui dovrebbe ruotare l'attività legislativa le sentenze delle corte costituzionali di questi ultimi tempi lasciano sempre un po' più perplessi rispetto anche alla capacità che anche chi è deputato al controllo del rispetto della Costituzione applica nei confronti di provvedimenti legislativi che molto spesso come nel caso della 119 e di questa proposta di legge regionale 143 dimostrano insomma che intaccano in maniera significativa i diritti costituzionali dei cittadini io a un certo punto non so chi l'ha notato mi sono assentato sono stato raggiunto telefonicamente da un'agenzia di stampa a dimostrazione che quello che sta accadendo qui comincia ad andare anche fuori da quest'aula e per chiedermi il motivo di questo convegno di questo dibattito di oggi e già nelle parole della giornalista si percepiva un intento polemico a tal punto che mi sono dovuto spingere chiedere senta ma dobbiamo fare un dibattito io e lei rispetto al tema dei vaccini oppure mi sta chiamando per sapere di cosa stiamo discutendo all'interno della sala perché l'approccio continua ad essere questo cioè che chiunque intenda dubitare voglia approfondire come nel caso del sottoscritto credo di tutti voi si scontra immediatamente con il pregiudizio di qualcosa che qui c'è una riunione di pericolosi sediziosi che vogliono minare la sicurezza e la salute pubblica e non chi invece è qui per cercare di capire come si debba approcciare a questa materia perché si può somministrare un vaccino anziché 10 contemporaneamente perché nella regione veneto i casi di morbillo pur avendo un numero di copertura significativamente inferiore rispetto al Lazio che ha abbondantemente superato il 95% i casi di morbillo sono esattamente quattro volte quelli della regione veneto perché se io avessi risposte a queste domande probabilmente potrei venire incontro alle considerazioni di chi continua a dire che i vaccini sono indispensabili non è così insomma ci sono ormai una serie di dati statistici di approfondimento di dati scientifici c'è stato detto dal professor Del Monte che insomma non è dimostrato che la copertura del 95% può essere valida per alcune patologie e non per altre quindi credo che insomma tutto quello gli architravi intorno a cui è stato costruito questo meccanismo che ci impone l'obbligo vaccinale si sgretoli al minimo approfondimento e io credo che questo sia doveroso da parte di chi come me rappresenta cittadini non tutti ma una parte ma credo comunque di dover interpretare il sentimento di chi vuole approfondire questa materia e noi siamo qui per questo oggi lo ribadiremo quando e se inizierà ma immagino che l'autunno caldo della politica introdurrà questo elemento e questa proposta di legge anche nel dibattito nazionale perché lo ricordava il collega Barillari presidente della regione Lazio Zingaretti e anche il segretario nazionale del Partito Democratico cosa che peraltro lo tiene molto lontano da quest'aula anzi praticamente noi non lo vediamo da marzo da quando è diventato segretario del Partito Democratico ma al di là di questa polemica politica che mi consentirete essendo io un consigliere di opposizione credo che il fatto quindi che Zingaretti sia il segretario del PD lo porti ad utilizzare i provvedimenti di legge per tenere vivo anche un dibattito politico nazionale credo che questa cosa sia assolutamente inqualificabile ma tant'è e quindi anche con questo ci dovremo confrontare però su questa proposta di legge daremo battaglia perché prevedere l'esclusione scolastica utilizzando come argomento l'episodio del bambino immunodepresso cui è stato accertato che ahimè era sottoposto già da mesi ad una chemioterapia è chiaro che lo aveva indebolito da un punto di vista di difese immunitaria e utilizzare quell'argomento credo che sia ancora più grave per cercare di perpetrare una legge regionale che non ha alcun fondamento né statistico soprattutto non statistico perché l'emergenza che viene richiamata è quella di un imminente serio grave pericolo di epidemia di morbillo che non esiste e parallelamente rintrodurre l'obbligo vaccinale continuando a minacciare i genitori e i casi che ho avuto modo di verificare anche di acquisire personalmente nelle ASL come viene io utilizzo il termine assunendome nella responsabilità è storto il consenso informato ai genitori è vergognoso e tutto questo in un paese civile non dovrebbe accadere perché anche io quando sono andato a fare il vaccino ai miei figli e ho chiesto dei chiarimenti non mi sono stati forniti ero in una fase in cui ci si fida ma è possibile che se io vado a sottoscrivere una polizza assicurativa mi viene fatto un questionario ad un amnestico di 120 pagine e mi chiedono anche se ho avuto l'unghia incarnita e se vado a fare il vaccino a mio figlio di pochi mesi non mi venga chiesto neanche se ha avuto un colpo di tosse il giorno prima io credo che questo sia assolutamente significativo e le modalità con cui viene storto il consenso informato dovrebbero essere già il primo segnale di preoccupazione per ciascuno di noi allora ovviamente io torno a ringraziare Massimiliano l'autorevole tavolo di relatori che oggi ci ha consentito di approfondire questa materia ovviamente non finisce qui perché le prossime sfide ci vedranno impegnati e ringrazio nuovamente il collega Barillari per la volontà manifestata di combattere anche con atteggiamenti anche con comportamenti ostruzionistici la proposta di legge 143 quindi credo che nei prossimi mesi questo dibattito tornerà speriamo che il DDL 770 veda quanto prima la luce e anche io mi adopererò col mio gruppo parlamentare di riferimento di Fratelli d'Italia affinché questa lo faremo insieme a Stefano all'Avvocato di Paulis portando questo contributo di lavori di oggi all'attenzione dell'Onorevole Meloni e del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia per dimostrare come la visione dei vaccini e del suo complesso vada totalmente rivista io sono giunto a questa convinzione e porto con me la convinzione che oggi si rafforza in Italia tante testimonianze autoribili e scientifiche che ci sono state rappresentate mi perdonerete se tra qualche minuto dovrò lasciare l'aula ma Massimiliano mi ha ipotizzato la conclusione dei lavori alle 14 e quindi avevo preso precedenti impegni mi tratterò ancora qualche minuto per poter ascoltare anche domande che verranno rivolte ai relatori che sono intervenuti che ringrazio nuovamente e ovviamente rimango a disposizione dei comitati di ciascuno di voi per poter continuare a approfondire questo tema e condurre questa battaglia a mio avviso di civiltà grazie grazie consigliere ora Francesco Marino di cose da dire ce ne sono tanti intanto ringrazio e faccio i complimenti a tutti i relatori perché sono stati eccellenti in particolare come uomo come cittadino come medico mi sono sentito molto toccato dagli interventi dell'avvocato De Ventaglia e dal mio past president il dottor Lavra arrivo subito dunque la questione di questa campagna vaccinale di massa è secondo me strettamente legata anche alla crisi della medicina di cui parlava il dottor Lavra e ce ne sarebbe di discutere personalmente io sono stufo nauseato incavolato di vedere la più nobile e sacra delle arti del curare fare questa fine miseranda nel senso di essere diventata sempre più la escort di lusso delle industrie farmaceutiche di Big Pharma questa non è scienza la scienza la scienza dice qualcuno le cheerleaders di cui parlava del Monte San Martino non è democratica è esattamente il contrario la scienza e la medicina nascono e si nutrono della cultura del dubbio e allora a questo punto visto che questa delle campagne vaccinali sulle vaccinazioni è solo l'antipasto perché si vuole far fuori tutto ciò che esula dal pensiero unico perché la scienza purtroppo ha usurpato il posto della religione e quindi a questo punto come uomo come cittadino come medico come omeopata come agopuntore io chiedo sia al dottor Lavra che all'avvocato Davin Tag esistono le condizioni e la volontà per creare una vera e propria alleanza tra il mondo medico la classe medica e il mondo della giurisprudenza della società civile per cercare di risollevarci da questo nuovo medioevo in cui stanno cercando di farci ripiombare in nome e per conto dei soliti inconfessabili interessi grazie chi risponde una domanda difficile questa un percorso in essere tutto in divenire direi in questo momento e secondo me i genitori sono i protagonisti di questo cambiamento perché noi siamo i protagonisti perché dobbiamo comunque rappresentare la società civile prego allora io dico solo una cosa brevissima io avevo l'idea avevo avuto l'idea di proporre un manifesto un manifesto per la medicina il titolo ovviamente è solo un suggerimento ma un manifesto che contenga 10-15 articoli che sanciscono i principi rinunciabili dell'arte medica e ancorati anche ai principi costituzionali dei diritti del paziente dei diritti della persona questo manifesto sarebbe bello che venisse proposto per la sottoscrizione a quanta più parte della società civile ma soprattutto medici scienziati e giuristi e sarebbe bello che venisse proposto come una riscossa civile della società civile che difende se stessa e dipende poi i valori anche molto più alti piuttosto che quelli solo medici niente è solo della scienza questa era un'idea bellissima non ci mancheranno i formarari io ho apprezzato molto questa domanda perché effettivamente è un tema centrale esprimo solo due piccole esperienze una è che costruendo quella associazione che abbiamo costruito di noi professionisti con il past president degli avvocati romani avevamo concordato di costruire un'intesa che potesse bloccare alcune aggressioni che viviamo da troppo tempo da parte di alcuni avvocati evidentemente non deontologicamente ispirati l'altra esperienza perché io credo che bisogna collaborare è quella di una diciamo una relazione già intrapresa con la procura di Roma e con il procuratore che coordina i PM di Roma che si interessano di sanità bene concordiamo che era tempo di togliere i veli nella relazione tra noi e i magistrati attraverso una contaminazione reciproca della materia giuridica e della nostra perché anche questa storia che siamo mediati quasi come se fossero mediatori culturali dai medici legali che spesso si dimenticano di essere medici e non riescono spesso a essere neanche legali c'è una cultura tutta da ricostruire un altro elemento importante che vivo quotidianamente che non fa incontrare le norme e ciò che è di fatto vitale nelle norme perché la convivenza civile abbia appunto una sua come dire ordinamento preciso è un fatto che noi viviamo tutti i giorni nella illegalità io parlo da medico ospedaliero in questo momento in cui pratichiamo degli esami per i quali è richiesto un consenso informato quindi qui il consenso informato abbiamo capito quanto sia importante e in realtà lo otteniamo ma lo otteniamo in modo legalmente non valido perché se il giudice tutelare non ti ha dato la disponibilità di esserlo il parente della persona cognitivamente ormai andata che tutti i giorni altrimenti dovremmo fermare gli ospedali ho cercato di spiegare anche chiudo in dodicesima commissione all'allora presidente e non l'hanno capito quando formulavano la legge sulle date e purtroppo ecco perché dobbiamo assolutamente collaborare abbiamo dei vuoti incredibili ci saluta il consigliere di lini perché sono più prerogabili grazie interviene l'avvocatore Pallis che prima gli avevo sottratto qualche minuto di troppo interviene mettendosi in coda al dottor Lavara prego su questo dobbiamo unirci noi come associazione già stiamo lavorando su questo perché siamo un'associazione a tre gambe usiamo dire c'è la parte medica la parte legale e la parte dei genitori e cerchiamo di lavorare in sinergia su questo non è assolutamente facile perché sono tre gambe che non sono abituate a dialogare i medici non sono abituati a farlo diciamo di per sé hanno difficoltà a esprimersi anche intimoriti noi anche come avvocati non facciamo fatica stiamo lavorando su questo ma facciamo fatica e in questo ci sono i genitori che invece a mio avviso potrebbero dare molto per aiutare per fare anche da tramite perché sono allo stesso tempo il nostro obiettivo di tutela ma anche la nostra forza io lo dico sempre a tutti il genitore formato da un punto di vista giuridico dei propri diritti così come da un punto di vista di salute tutelato è inattaccabile quindi abbiamo iniziato questo percorso stiamo ragionando anche con altre associazioni di medici stiamo cercando come dire anche di ridare un po' di fiducia ai medici quindi questo passa attraverso degli studi seri attenti che necessitano anche di tempi abbastanza lunghi sia per l'elaborazione sia per la pubblicazione vogliamo parlare di salute a 360 gradi e farlo in un quadro giuridico chiaro quindi è una questione di comunicazione dobbiamo sapere comunicare e poi l'ultima cosa del sito noi i 20 omeoprati non siamo punterati minimamente dall'ordine perché tutti i giorni ci stupano le notizie e quindi il vento è un po' di 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 un po' medico omeopata che vorrebbe parlare Paolo D'Annibale e concludiamo prego buongiorno a tutti sono biologo mi interessa ai vaccini in quanto genitore di due bimbe in età critica il mio è un intervento molto breve è un invito che vale per tutti ma saluto per chi ha parlato oggi all'uso del termine epidemia è stato usato perché è un termine che si deve usare però è un termine abusato e tecnicamente dovrebbe essere epidemia quando il numero di casi osservati supera quello atteso e quello atteso viene calcolato con dei criteri invece a ogni picco picco poi a un numero di casi conclamati di morbillo in particolare quando si parla di epidemia a Bari 6 persone nello stesso ospedale epidemia quindi vorrei invitarli ho già rivolto questa richiesta di persone a bella vita quindi se può rispondere ancora a lui mi fa molto piacere oppure anche la rivolgerei a Dalmonte e anche al pedante che leggo sempre con piacere so che attento ai dettagli e ai termini uno di tre direi che non abbiamo più tempo l'epidemia è un po' forse un problema effettivamente dipende da come viene usato il termine è chiaro che rinferimento all'unica virgoletta epidemia che è attualmente in corso è il morbillo si può dire che è un'epidemia molto piccola certamente i casi sono un po' superiori in questo periodo a quelli che sono stati negli ultimi 15 anni ma non ne farei una questione proprio di definizione se c'è un aumento di casi sopra il valore endemico dove il valore endemico del morbillo dovrebbe essere molto basso se c'è un aumento viene in popolazione molto vaccinata si parla anche di outbreak cioè è come sfugge al controllo ecco purtroppo appunto viene usato anche un minimo focolaio chiamiamolo focolaio epidemico sei casi si sono contagiati tra loro o c'è stato qualche ingresso dall'esterno si può parlare di un piccolo focolaio epidemico certo si tratta di epidemie che nell'ordine delle migliaia in una popolazione di 60 milioni di abitanti in un anno intero sono trascurabili sostanzialmente rispetto a tutte le altre migliaia di casi di patologie che possono interessare i bambini parlavo per esempio oggi a pranzo si parlava stamattina si parlava dell'epidemia che c'è di obesità infantile che è enormemente superiore oppure le epidemie che possono avere i bambini hanno queste infezioni respiratorie sono legate moltissimo all'inquinamento ma qui stiamo parlando non di mille casi ma di diecimila centomila casi nessuno ne parla quindi ecco dipende molto dal contesto ma non ne farei un problema così semantico tutto qua eh lo so allora troviamo troviamo un altro troviamo un altro termine ma se i giornalisti vogliono vogliono come si dice creare un caso lo creano lo stesso secondo me nel mondo giornalistico dell'informazione c'è per quel che ho visto io negli ultimi due anni c'è una cappa si potrebbe dire di non so posso usare il termine di menzogna sistematica non so se è collusione o se è di intreccio di cappa di di omertà e di di falsificazione dei numeri dei concetti delle parole che fa paura fa più paura questo forse che non addirittura il vaccino o la malattia infettiva cioè anche ne parlava anche il pedante è un problema di cui il vaccino è la punta dell'iceberg di questa falsificazione di tutto dell'economia della politica della geopolitica di quello che ci fanno credere che invece non è così nella realtà tutti lo sanno tutti si rendono conto che se uno conosce un argomento legge sul giornale ed è completamente la realtà è diversa da quello che si legge è un problema di culturale cosmico come si potrebbe dire di civiltà bravo allora c'è un altro genitore Petrella Serena che vuole dov'è non l'hai vieni vuoi fare la romana degli avvocati immagino prego allora io volevo porre la mia domanda agli avvocati in quanto ho mio figlio che ha 13 anni non è mai stato vaccinato ho avuto delle difficoltà che ho riscontrato per le iscrizioni alla scuola poi le ho superate e volevo sapere questo in merito alle sanzioni che quindi io rischio perché ovviamente non continuerò sulla mia strada a non vaccinare mio figlio volevo sapere come funziona qual è il conteggio per appunto dei giorni gli anni di non vaccinazione a cui il bambino comunque non è stato sottoposto so che il limite sarà il sedicesimo anno dopodiché siamo fuori però non solo per me ma anche penso per gli altri genitori comunque questo è importante sapere sapere a che cosa si fa incontro a livello di ammenda di sanzioni e come impugnare eventualmente la sanzione perché il momento che ci arriverà questa sanzione da pagare ci sono delle leggi costituzionali al quale ci possiamo appellare e quindi impugnare e fare un ricorso oppure no ecco questa è la mia domanda va bene grazie chi risponde dei due vero Stefano pronto allora rispondo con quella che è l'esperienza che abbiamo maturato finora il regime delle sanzioni ce l'abbiamo con un quadro abbastanza chiaro soltanto in Umbria sono partite l'anno scorso con i primi verbali di accertamento tecnicamente proceduralmente a questi verbali di accertamento le famiglie avevano due opzioni o pagare o presentare degli iscritti difensivi sono stati fatti in moltissimi casi questi iscritti difensivi dove si è richiesta anche l'audizione personale davanti a una commissione sono state convocate queste famiglie hanno ribadito i loro motivi in fatto e in diritto molto sinteticamente e adesso a distanza di un anno stanno arrivando le sanzioni vere e proprie il calcolo il calcolo è fatto sulla base della della mancata vaccinazione in buona sostanza e allora in Umbria abbiamo due ASL Umbria 1 Umbria 2 Umbria 1 ha agito in un modo Umbria 2 ha agito in un altro ma non è un caso perché siccome non ci capiscono nulla manco loro perché questa è una legge fatta coi piedi quindi hanno detto ma come famo detto proprio brutalmente ma proviamo così Umbria 1 o Umbria 2 adesso non ricordo una delle due ha fatto delle sanzioni sulla base del prodotto commerciale non inoculato quindi per capirci tuo figlio non ha fatto nulla quindi ha sostanzialmente l'esavalente e l'MPR si becca due sanzioni quindi un terzo del massimo il massimo è 500 euro il terzo è circa 167 172 a seconda dei calcoli che hanno fatto pure sugli oneri insomma una serie per due ovviamente quindi 167 dell'MPR 167 per l'esavalente l'altra considerato invece il complesso delle vaccinazioni non effettuate non hai fatto nulla bene ti becchi 167 per tutte e nove e stai a posto così dopo siete immuni ovviamente no ci arrivo allora non lo sappiamo non lo sanno loro non lo sappiamo noi vedremo in teoria secondo un minimo di logica dovrebbe essere per i dichiami nel senso mio figlio l'altro anno si è beccato la multa perché aveva due anni non aveva nessun vaccino si becca diciamo i 167 per il complessivo tra due anni quando ci saranno i richiami dei 5-6 anni si potrebbe ribeccare un'altra sanzione non per ogni anno ma per i richiami mancanti allo Stato quindi nel suo caso secondo me 13 anni non ha fatto nulla una sanzione stop basta però dico pure è inutile che noi ci mettiamo a nuotare sulla sabbia come diceva mia nonna si nuota a mare quando arriverà il verbale accertamento di violazione ci si penserà nel Lazio ancora stanno dormendo per il momento stanno arrivando adesso quelle dell'Emilia Romagna si sono mosti in Emilia Romagna non so se in Friuli ancora nulla hanno ricominciato anche in Alto Adige però non ho altre notizie di altre regioni che applicano questo regime sanzionatorio che fare impugnare o pagare qui ci sono due scuole di pensiero c'è chi dice in maniera molto italica io pago e vado sotto coperta tutto sommato con 170 euro me la cavo e scompaio al sistema come dire oppressivo perché io ho pagato come se pagassi una qualsiasi multa impugnare impugnare costa perché costa più della sanzione da un punto di vista proprio di spese legali lo si fa per un motivo di principio e come diciamo noi ai nostri avvocati il motivo di principio ai nostri clienti il motivo di principio si paga non è cattiveria ma ci sta una responsabilità professionale ci sta una materia tutto sommato nuova perché è vero che il regime è quella della 689 dell'81 ma è applicata su un'altra norma e quindi dobbiamo anche per trovare i cavilli le zeppe da mettere dobbiamo elaborare una nuova giurisprudenza gli avvocati tutti quelli che io conosco e che fanno parte del team di Assis ma so anche di altre associazioni in genere si comportano in maniera eccezionale applicano i minimi alle volte anche sotto i minimi tariffari calcolate che noi da tabelle ministeriali dovremmo applicare i medi adesso questi sono tecnicismi un po' noiosi però dato che incidono sulla saccoccia hanno la loro importanza e quindi si fa un'impugnativa perché per tutelare la propria posizione ma anche per fare rete ci stanno questi che fanno rete per conto loro sui social facciamo rete noi sul serio voglio ricordare in questo senso che il regime sanzionatorio in alto adige che prima della legge Lorenzin è stata l'ultima provincia che faceva delle sanzioni è finito perché a fronte di un monte di impugnative che erano state fatte dalle famiglie quasi tutte rigettate ce ne stavano altre dieci volte tanto pendenti presso i vari giudici di pace di Merano di Bolzano eccetera eccetera quindi gli avvocati sono andati al presidente della provincia hanno detto bene allora qui abbiamo cento sentenze che ci rigettano i ricorsi però ce ne stanno mille che infognano il giudice di pace di Merano e questi sono in due e non riescono a lavorare sulle altre cose che vogliamo fare il presidente della provincia ha dato l'input fine del regime sanzionatore in alto adige quello che io chiamo il potere dell'RG l'RG è il numero identificativo che si dà ad ogni causa che pende davanti a un ufficio giudiziario quindi una massa di impugnazioni può mettere in crisi il sistema perché chiaramente vai a infognarlo a impantanarlo non riescono a elaborare pure con tutta l'informatizzazione quindi questa potrebbe essere un'altra strada per percorrerla e percorrerla con buone probabilità però bisogna fare massa critica se su Roma siamo in cento che facciamo impugnativa fa morire se siamo in cinquemila incominciamo a ragionare cento invece cento famiglie in Trentino hanno bloccato il giudice di pace non so dove quindi è chiaro che è tutto commisurato scusate ma poi pagare il deputale è un'ammissione di colpa no 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 questa è a mio avviso una fola poi ci sono altri colleghi che invece la considerano come un riconoscimento un'ammissione di colpa no io pago lì c'è un regime sanzionatorio è prevista questa cosa e io pago 500 è il massimo allora in prima battuta allora pure lì non si sa vai allora la legge prevede che la sanzione vada da un minimo di 100 al massimo di 500 l'importo dovrebbe essere in questo range dovrebbe essere lasciato alla discrezionalità dell'ASL dell'organismo che promana questa di fatto questa ordinanza in giunzione di pagamento fatto sta che cosa fanno loro loro hanno deciso di applicare automaticamente la possibilità di estinzione immediata agevolata cioè io ti dico guarda la sanzione sarebbe da qua a qua ma se tu la paghi entro 30 o 60 adesso non ricordo è una previsione specifica della legge 689 dell'81 ti do la possibilità di estinguerla anticipatamente entro questo termine pagando un terzo del massimo quindi 167 quindi se si paga immediatamente 167 la cosa è finita lì viceversa se uno impugna l'emergenza è finita esatto viceversa se uno impugna deve sapere che non solo avrà le spese legali perché anche pur venendo incontro e gli avvocati sono sempre disponibili su questo tema però è ovvio che c'è un lavoro da fare è possibile che se va male l'impugnazione il giudice poi ridetermini la sanzione in una misura maggiore pertanto uno può correre il rischio di pagare le spese del proprio avvocato pagare le spese della controparte qualora si costituisse in giudizio perché se perdo la causa posso essere condannato anche a pagare le spese del mio rivale tra virgolette e poi mi becco anche una sanzione più alta quindi è ovvio che è una questione di principio e io non posso consigliare di non impugnare secondo me bisogna impugnare anche perché primo ci sarà pure un giudice a Berlino a un certo punto secondo si può anche tornare davanti alla Corte Costituzionale e non si può andare alla Corte Costituzionale senza passare per un giudice che sollevi la questione alla Corte quindi è ovvio che l'interesse ad impugnare c'è ogni famiglia dovrà fare le sue valutazioni dovrà dire posso permettermi questo principio oppure pago questi soldi ed è chiusa qua allora nell'ordinamento italiano la cosiddetta class action è un po' complessa nel senso che ogni posizione è a sé e soprattutto quello che sarà dirimente per consigliare una famiglia se impugnare o meno sarà l'iter che hanno svolto fino a quel momento è ovvio che sarà molto difficile fare impugnare la sanzione a una famiglia che ha disertato tutti gli appuntamenti dell'ASL con mille scuse piuttosto che una famiglia che si è sempre presentata con la lista di domande con documentazione e non ha mai avuto risposte soddisfacenti allora lì certamente si può millantare una lesione del consenso informato al proposito la domanda chiedeva anche se ci sono articoli della Costituzione da citare allora nei ricorsi non si cita la Costituzione diciamo che sì certo che entrano in gioco anche quelli l'articolo 3 l'uguaglianza fra cittadini per cui tu non puoi l'obbligo l'obbligo da parte della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono lo svolgimento della vita della socialità eccetera l'articolo 32 della Costituzione come abbiamo già detto e così via ma direi che principalmente quello che va sollevato è proprio la violazione dell'obbligo da parte del sanitario di fornire un'informazione esaustiva non hai messo i genitori nella condizione di poter fare una scelta informata perché a tutte le domande che abbiamo posto non hai dato ma è andata anche bene perché invece in Friuli-Venezia-Giulia mandano una letterina con quattro link al sito internet fra cui Superquark Superquark la puntata sui vaccini comunque scusi da questo si dice solo una cosa che pagando scompare improvvisamente il rischio di epigenia cioè qui in Italia si paga e allora a quel punto è come se fosse vaccinato se veramente ci fosse un problema di ragione etica da contrapporre al nostro modo di pensare sarebbe eh sì effettivamente è così purtroppo è questo è questo è questo si diciamo che poi entrava in gioco la scuola dell'obbligo poi entrava in gioco la scuola dell'obbligo per cui loro hanno detto non possiamo ricattare la famiglia con la scuola dell'obbligo questo è poi adesso vedremo ecco perché questa è una domanda sanitaria alla quale non posso rispondere di certo io farei così mi arriva la letterina con tutti i link vado a vederli tutti quanti li leggo tutti in alcuni casi che hanno portato la mia attenzione due sui quattro erano url not found e poi mi resta super quark allora scarico studio vedo se ci sono effettivamente le risposte di solito non è informazione ma solo propaganda marketing e quindi poi alla luce dico guardi ci si presenta e si dice guardi su questo sito che lei mi ha consigliato mi dicono questo questo ma io non trovo risposta a questo questo e poi si può andare con altri studi scientifici ne avevo trovato uno per esempio della rivista scientifica della FIMP la federazione di pediatria la loro rivista la rivista diciamo di riferimento che parlava di un caso di strabismo a seguito di MBR e che quindi metteva in guardia allora con quel documento dico scusate questo è proprio della federazione di pediatria cosa mi dite al riguardo eccetera insomma cercare di raccogliere più informazioni possibile atte a rendere un consenso informato spesso e volentieri queste informazioni non vengono date e quindi quella sarà poi la leva in caso si volesse decidere di impugnare e poi chiedere un colloquio e poi chiedere un colloquio cioè è folle che non ci sia un colloquio cioè che l'unica informazione che l'ASF fornisce è vai a vedere sul sito no il colloquio ci deve essere loro prima però ti mandano se vuoi tanto informarti vai qui loro fanno così io vado lì e vedo se lì ci sono le risposte alle mie domande no cioè il rapporto deve essere assolutamente limpido e trasparente perché mettiamoci in testa una cosa i genitori non hanno niente di cui vergognarsi cioè non bisogna partire con l'atteggiamento di chi gioca in difesa no cioè se un genitore potesse far assumere a suo figlio un farmaco che a fronte di rischio zero o praticamente infinitesimale lo tutela da malattie così gravi e invalidanti e pericolose ma ne farebbe 40 no cioè questo è l'atteggiamento si vede allora qua rimanda intanto dicono che non possono dire in anticipo il lotto questo è ovvio non posso sapere il lotto ragazzi scusate se vi interrompo l'orario termina insomma concludiamo perché c'è un genitore che era rimasto in attesa e poi il pedante dal monte vorrebbero fare un intervento brevissimo poi ci sono i vari siti e vabbè e poi chiedono di parlare col pediatra di informarsi dal pediatra benissimo vado dal pediatra e faccio un collo vado guardo tutti i siti prendo le informazioni e vado dal mio pediatra a quel punto se poi mi convocano hanno un vaccino dico non ho avuto le informazioni chi non gliela ha dato il mio pediatra arriva la sanzione si impugna e si dice non ho avuto le informazioni da chi? dal mio pediatra non mi ha detto questo, questo, questo e quest'altro fine ho distratto un momento allora c'è l'ultimo genitore che veloce ci leggerà un allora buongiorno a tutti in qualità di medico e genitore riconosco la potenzialità terapeutica del vaccino per averlo studiato e applicato come atto terapeutico come metodo profilattico curativo ma al tempo stesso mi pongo di fronte adesso come faccio con qualunque altro farmaco con spirito di ricerca studio e monitoraggio con un atteggiamento di ricerca che non può e non deve disconoscere la previsione che è la vaccinazione poiché somministrata tutti allo stesso dosaggio e su sistemi immuni diversi tra loro possano essere la causa di lesioni o infermità o implicare una menomazione permanente nella integrità psicofisica o patologie mortali articolo 1,1 articolo 2,3 legge 210 92 e fin anche a persone non vaccinate in conseguenza di contatto con persona vaccinata articolo 1,4 legge 210 92 da qui la necessità delle vaccinazioni di massa per favorire la immunità di greggio che tuttavia come si è visto è in grado di riaccendere focolai ormai estinti a modi epidemia indotta a causa anche di vaccini complessi contenenti più microrganismi miscelati insieme come la trivalente esavalente errore storico che già fece Edward Yenner unendo il cowpox con lo smallpox e degli adiuvanti metalli pesanti come alluminio mercurio eccetera che se è vero che servono ad accelerare la formazione di anticorpi è pur vero che sono lesivi del sistema nervoso e così dicasi per le troppe e ravvicinate iniezioni e richiami che costituiscono per l'organismo un sovraccarico eccezionale non voglio qui scendere nella arena dei provax novax free vax obli vax lasciatemi soltanto dire a onor del vero che Edward Yenner scrisse non so se ho commesso un errore o ho creato un mostro egli vaccinò suo figlio a 10 mesi nel 1798 che poi morì a 21 anni di encefalopatia in seguito un bambino di 5 anni John Baker ed una donna all'ottavo mese di gravidanza entrambi deceduti subito dopo non possiamo risconoscere quanto riportato nel rapporto vaccini 2017 emanato dall'agenzia del farmaco AIFA e le reazioni avverse con le labbi in esso denunciate che costituiscono una significativa evidenza meritevole di attenzione e riflessione tutt'altro che da considerarsi una percentuale bassissima di tollerabilità del gruppo dei responder come medico ho fatto il giuramento di Ippocrate che segna il rispetto della vita e la dignità dei malati la perizia e la diligenza nell'esercizio della professione primum non nocere perciò è mio sacro dovere tutelare la salute di tutti i pazienti e per questo ritengo che preliminarmente a qualsiasi vaccinazione sia imprescindibile la necessità di effettuare diagnosi approfondita individualizzata con analisi genetiche come HLA classe 1 e 2 antinucleo anti-DNA allergie IgE intolleranze IgA celiachia elettroforesi proteica anticorpi al fine di conoscere il reale stato di salute del paziente e la sua diatesi ad ammalare e soltanto dopo aver istruito ed acquisito il suo consenso informato valutare con i genitori che democraticamente potranno sempre impugnare in forza della legge di Oviedo la possibilità di vaccinare o no ritengo necessario che l'istituita anagrafe vaccinale nazionale sia correttata con un efficace sistema VAERS Vaccine Adverse Event Reporting System di monitoraggio continuo e vigilanza attiva promosso da medici che sottopossi soltanto alla legge non debbano essere sanzionati o espulsi dall'ordine dei medici solo per aver espresso il loro consenso informato nei casi di reazioni avverse dovrà prevedersi in favore del soggetto danneggiato da vaccinazione il giusto risarcimento e non l'attuale mero e insufficiente indennizzo è necessario tener conto che le reazioni avverse da vaccinazione possono accadere anche a distanza di molto tempo vedi le encefalopatie che possono manifestarsi anche dopo tre anni questo succede anche con le patologie autoimmuni che i vaccini sono in grado di slatentizzare così come è accaduto a mio figlio all'età di 12 anni a seguito di vaccino trivalente divenuto diabetico insulino dipendente costernato mi rivolsi immediatamente al dottor Ricordi presidente dell'istituto tra pianti di Palermo e scusate e titolare della sua clinica diabetologica in Florida va bene perché sapevo che aveva guarito altri diabetici con le cellule staminali mi riferì perché prima dell'inoculazione aveva bisogno di conoscere il suo HLA classe 1 e 2 facemmo le analisi a San Camillo le analisi genetiche di Roma ma purtroppo i risultati furono positivi per la presenza di DRD e DR4 e quindi non poter fare il trattamento di in quanto di versamento dopo un breve periodo di miglioramento non potendo intervenire con farmacia antirigetto sarebbe ritornato il problema allora decisi di curarlo con la medicina omopatica e la nutriterapia con il mio maestro professor Antonio Negro gli somministrammo una dose a settimana di fosforus 0,6 LM 50 millesimale per un mese grazie a questa terapia infinitesimale all'esclusione di glutine e caseina gli allergeni che infiammano costantemente il microbiota lo tenemmo in una di miele per tre anni a fronte di uno previsto dalle linee guida dell'endocrinologia questo avvenimento mi convinse della efficacia di tale medicina omopatica che anche il padre ipocrate conosceva di usare a questo riguardo devo dire che il dottor Hahnemann fondatore della medicina omopatica scrisse al capitolo 56 del suo libro Organon che ringraziava Jenner per aver debellato il fragello del variolo ma disse anche che ove fosse inoculato in modo complesso ponderale e isopaticamente e non diluito né dinamizzato come un rimedio omeopatico e come il nosodo da malattia da tempo unico ciò avrebbe causato l'insorgenza di malattie iatrogene gravi oggi il dottor Ravi Roy medico indiano esercita in Germania a Monaco di Baviera sulla base degli insegnamenti di Hahnemann e di tutti i più grandi omeopati Ehring Allen Barnett Julian Buck Staff Gross cura con la profilassi di nosodi tutte le malattie infettive dalla polio al morbillo con risultati positivi e costi minimi a testimonianza della loro efficacia rappresento che ho curato un'infezione di staffiro cocco aureo con il suo nosodo similinum staffiro coccinum in soli pochi giorni concludo porgendo i miei ringraziamenti per la vostra attenzione e termino rappresentandovi che qualsiasi provvedimento normativo che non tenga in debito conto di quanto vi ho testimoniato non può ritenersi meritevoli di allocuzione scientifica né di garanzia e cura della salute pubblica in particolare di coloro che sono in fase evolutiva con apparati anatomo-fisiologici in formazione vi ringrazio allora chi meglio di un editorialista può chiudere i lavori con una sintesi prego sì no in realtà io ti ho chiesto la parola per fare un breve messaggio ma posso anche chiudere i lavori posso fare entrambe le cose in appendice al mio intervento e agli spunti di altri relatori sul ruolo della scienza nella società contemporanea e complessa e sulle manipolazioni che a cui è sottoposta dalle personalità ma anche da questo fenomeno di cui oggi abbiamo parlato con Dalmonte e con altre persone anche attive all'interno del mondo diciamo della critica alle politiche vaccinali e non solo abbiamo due mesi fa fondato un'associazione che si chiama E1E E1E che è un fiume della Divina Commedia di Fantasia di Dante Alighieri il sito E1E.org e all'interno di questa iniziativa la prima realizzazione che abbiamo fatto è stato un manifesto sull'uso della scienza che cerca di rimettere il risultato scientifico all'interno di un come diceva anche l'Avra di una complessità sociale dove la scienza non può spiegare tutto e quindi non può imporsi ma può fornire invece dei contributi fondamentali per il benessere della comunità qualora appunto adottata secondo i suoi limiti e secondo le sue caratteristiche e la sua dignità quindi vi segnalo questa cosa E1E il manifesto sull'uso della scienza verrà presentato in settembre a Bologna e poi magari darò qualche dettaglio agli altri relatori niente io ringrazio chi è rimasto ringrazio chi ha partecipato a nome penso di tutti sono stato il primo a imparare tante cose oggi da competenze sicuramente più specifiche di quelle mie generali che ho di commentatore degli eventi politici tra cui anche tra cui anche questo ho registrato la buona volontà di alcuni esponenti della politica anche se purtroppo veramente pochissimi e necessariamente in punta di piedi e questo ci fa capire che che questo impegno nonostante vada avanti ormai da tanto tempo ancora va davanti a sé tanta strada io mi auguro anche come genitore di non trascorrere un anno scolastico come quello che si è concluso a giugno perché è stato abbastanza traumatico e faccio lo stesso augurio ai genitori che ci sono in sala e auguro anche stendo l'augurio anche i medici e l'Avra e dal monte eccetera affinché le fila di questi professionisti coraggiosi ma anche intelligenti e diciamo che sono tutt'altro che dei tecnici ma per molti versi sono dei filosofi della scienza io spero che queste fila si ingrossino sempre di più sempre più colleghi si uniscono al loro impegno perché la medicina anche oltre al problema delle vaccinazioni ha effettivamente bisogno di essere rinnovata nella fiducia delle persone e quindi prima ancora nella dignità della disciplina e delle finalità che rappresenta quindi io ringrazio tutti bene gli interventi credo che siamo finiti forse il professor Bellavite mi chiedeva prima un intervento ulteriore abbiamo cinque minuti se quale soltanto soltanto una cosa che poi riunisce un po' qualche altro concetto che è stato espresso la medicina è vola con due ali l'arte e la scienza l'arte l'arte è per definizione qualcosa che si che non è quantitativa è è è individuale ed è soggettiva la scienza è oggettiva è universale cioè quello che scopre la scienza è per tutti allora le due cose non sono in contrasto ma sono complementari non si può fare meno né dell'una né dell'altra quindi anche se si parla della statistica la statistica non è il diavolo la statistica aiuta soprattutto la statistica è interessante per quando si parla di tutti mi spiego cioè noi non dobbiamo dimenticare l'individuo ma non dobbiamo dimenticare la collettività il decisore il decisore politico che si deve interessare di tutti e non del singolo ha necessariamente bisogno della statistica e la statistica però deve essere fatta da persone competenti e indipendenti e non fatta con le parole e la statistica ci deve portare quindi la scienza statistica che è la scienza degli errori attenzione la statistica non scopre le verità ma riesce a ridurre gli errori perché ce ne dà la misura quindi la statistica e la scienza nel campo della vaccinologia non può fare altro che una cosa che stabilire qual è il rapporto tra i benefici e i rischi perché i benefici si possono calcolare in termini di vite salvare di malattie evitate eccetera e i rischi si possono calcolare in maniera corretta in base al numero delle reazioni che avvengono per un tot numero di vaccini quindi attenzione a non demonizzare assolutamente la scienza salviamo l'individuo e salviamo la scienza ma la scienza vera la scienza libera la scienza indipendente quello di cui ho sentito parlare proprio oggi e non la scienza dei parolai o di quelli che si autodefiniscono scienziati e o delle cosiddette società scientifiche perché attenzione che quelle che si chiamano società scientifiche non sono società scientifiche sono gruppi di potere sono gruppi che si organizzano di professioni professionali la società scientifiche mettiamo quella dei pediatri non producono niente di scientifico sulla pediatria cioè non producono pubblicazioni scientifiche che si trovano che si possono leggere e neanche i medici di famiglia non fanno neanche la ricerca a questi qua ce ne sarà uno su mille forse di medici che fa ricerca lodevolissimi a loro spese per carità non è che non ci siano ma non parlate di società non pensiamo che siano società scientifiche perché queste qui piuttosto infangano il nome della scienza la scienza non è fatta di società e anche quando parlano di comunità scientifica state attenti è un falso in atto pubblico io ho fatto lo scienziato tutta la vita e lo so che gli scienziati quando si parla di argomenti di avanguardia sono tutti uno contrario all'altro cioè giustamente sono in competizione c'è chi sostiene una teoria e chi sostiene quella opposta è giusto che sia così proprio perché la scienza è fatta di dubbi la scienza è fatta per dubitare di quello che hanno detto gli altri e il vero scienziato io sono stato formato da un professore che mi ha dato l'anima mi ha dato la voglia di fare ricerca e questo professore mi ricordo era sempre in contrasto con un americano che sosteneva una cosa diversa dalla sua lui sosteneva che questo enzima sta nei granuli l'altro che sta sulla membrana e continuavano a litigare su sta roba qua mi spiego e questa è la scienza non quelli che sanno già tutto ecco mi sono spiegato quindi chiariamoci questo aspetto che poi si parlerà si parlerà di scienza in questo documento e avrò piacere anche io di partecipare e naturalmente grazie 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 al dottor Lavra al professor Giuliani all'avvocato Devedag al pedante al dottor Dalmonte a Stefano Repaulis al professor Bellavite grazie a tutti voi per essere stati pazienti e presenti uso una metafora ad impianti a presto ragazzi ci vediamo domani grazie grazie a tutti